Però mi raccomando, io se non la vedo ti dico che sei scarso F5 Siamo pronti Io penso che si, ragazzi come state? Ma io credo che si Io non te vedo Te vedo mai Sto aspettando un link Un qualcosa Gambito Club è incredibile, è live, quindi io posso condividere questa storia bellissima Che dice che siamo live Ma perché non vedo? Ecco Cazziccio domenicale Però perché non la vedo? Io vado a partire da random intanto Giusto per scaldagliarmi 3 più 0 in amicizia Ma perché non la vedo? Eccola, da vivo ora, vai Eccoci Siamo partiti Benissimo Attenzione, io Potrei rientrare nella francese No, Sb6 è una roba bruttissima Ho visto quello di Gotham Chess Donna che bordello, regalo Non ho senso Sì, coppia degli alfieri gratis Ci sta bene 12 spettatori attuali Ma cosa vuol dire 12? È tipo 12 Non prende? Ma ditecelo in chat se ci siete È un ippopotamo Che bordello ragazzi Ma questo non è un ippo Questo è un È un ippocampo È un ippocampo È un ippocampo A Roccolungo ci piace A Roccolungo che io vedo delle case chiare Non troppo Aspetta che voglio mettere prima il rena 1 E poi vediamo Eccolo là Avanziamo? Diventiamo violenti? Ma sì Ma spingerglieli tutti Io però vorrei Ci pensa lui a spingerli Ma come? Non c'è la chat? Non c'è la chat C'è la chat È solo che non si vedono i messaggi C'è nessuno C'è scritto ancora nulla Perché le persone sono cattive 11 spettatori Qualcuno se n'è andato Infamissimo Ciao Stefano Come stai? Stefano Marini Buonasera Stai facendo una piccola prova Perché abbiamo deciso Di iniziare a fare qualche diretta Incredibile Ci segue anche un Ci segue anche un certo Marco Parpin Che ci dice ciao Chi è Marco Parpin? Quello ragazzo forte È scritto al canale Se non sbaglio Sono questi CM A caso Che si scrivono Al nostro canale Per imparare Sentite ma Ci sono buone possibilità Che entrano in settima E lo devasto? Ma io credo di sì Non si è detto Regisette Oh 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 Aspetta Un altro obiettivo Let me introduce My rook Into your seventh rank Pensavo sarebbe Per dire un'altra cosa Seventh rank È un altro modo Per dire ass Diciamoci la verità Si è sempre Si è sempre Seven even Se dopo Di sei Gli piazzo Donna E sei Abbandona Ho disattivato L'audio della diretta Così sentiamo solo lui Perché se no È bravo Scusami Queste sono le basi Marco Cioè Da un punto di Questo è proprio breve Questo è proprio Il dolore Che arriva Nella faccia del nero Dovrebbe giocare C8 No questa Vabbè questa Questa no Scacco scacco Penso di sì Ma noi siamo Già Con il petone Oddio Il problema È il perpetuo Come sempre Attenzione All'alfiere in cidria È quello Il problema È il perpetuo Quindi forse All'alfiere in cidria Scusa Se fai Se fai Donna C6 Scacco E a fiere 5 Minacci D7 Scacco Che succede Sei una persona Fantastica A volte Lo sai Grazie Caro Che succede Se lo faccio Cambiando prima Le torri Così In ottava Ci arrivo Con donna Ma che cazzo Te ne frega Del tuo gioco Ma fai D7 Lampo No È meglio E a fiere 5 Eh no Però c'è ragione Vabbè Ormai l'hai fatta Voleva la torre Dall'ottava Cambiare le torri Prima Chiamare la torre Non mi serve più Dopo che gioco A fiere 5 No Però così Minacci D7 E donna C8 E fine E a mucchia No Mi pare Sì Anzi Minacci quasi Mi sa che Questa minaccia D7 Matto Una cosa Random Vabbè Penso che è andata Dai Credo Immagino Adesso che è andata Possiamo Questa Questa C'è Lasciato Possiamo Darne importanza E salutare Grande Luigi Luigi ci segue sempre Buonasera ragazzi I nostri video I nostri mini video No? Le sciocchezze che io e Franco Ogni tanto partoriamo Dalla nostra mente malata Eh sì Siamo Siamo arrivati pure live Buonasera ragazzi A chi ci segue Siamo Fatti così Tu sei fatto così Io sono fatto un sacco Tu sei proprio fatto Franco Fatto di tuo Tu sei fatto E male pure Sì però Per stare mio Penso che a questo Alfiere 5 Proposta dal Parpin È rimasto un attimo Allibido Allibido Possare Vittorio Me lo immagino Sulla sedia Che schiuma Bava dalla bocca Praticamente Che Vabbè Andà Penso perderà per il tempo Lascerà il tempo Scorrere fino a zero Come fanno tutte le persone Molto sportive No Prima Te fa donna B Uno scacco Prima Poi dopo Abbandona Intanto la donna La mette in C3 Così almeno devi All'alfiere Con l'idea che Paro il matto E gioca ancora Per un bel po' No beh Penso a Abbandona Infatti Abbandona Bravo Sì è stato Troppo devastante L'effetto psicologico D'Alfiere 5 È stato qualcosa Di veramente Bellare Lui voleva giocare F4 Solo che ha giocato Alte F4 Vabbè ragazzi Se ci volete sfidare Io sono Cavallo Goloso Marco è Bibusche E Franco Non mi ricordo Al momento Onestamente Il nick Ma io in questo momento Ma voi non mi potete sfidare Se volete sfidare Ditemelo Che vi metto il link In chat E ok Altrimenti Buonasera Grazie per il vostro lavoro Ma grazie a te Per guardarlo Allora Se ci volete sfidare Aspetta I ragazzi Si stanno ambientando Facciamo un'altra sfida Al volo a volo Giusto per gradire Un'altra 3 più 0 Ma questi 21 spettatori Ragazzi Cioè In 6 minuti Io non ho mai capito Sto gambetto Onestamente Mi danno sto pedone Per fare che cosa Il gambetto Englund Penso si chiami Ma guarda Cioè Tanto il nostro avversario È fortissimo Ma tu prima magna E poi ci pensi Io prima in gioco E3 Così le idee strane Se viene per lui Guarda Guarda il tuo alfiere in C1 Quanto si è incattivito Dopo E3 Il pedone È chiaramente Il padre fondatore Dell'alfiele triste Più triste di quella volta Che ricordo La professoressa Mi ha chiesto La penna in prestito Per mettermi una nota È stata una delle scene Più tristi della mia vita Te lo giuro È stata una cosa Che mi ha veramente Mortificato È stato È stato come Non lo so Io vorrei dire Professore Due euro E te la presto È stata una cosa Secondo voi Vorrei arroccare lungo O corto Perché Coerentemente Con il gambetto Dovrebbe arroccare corto E sfrutta la colonna F Però lo vedo Fa cose strane Donna D7 Ma lui arrocca lungamente Secondo me Allora io gioco Torre B1 Che è ambigua Se arrocca lungo Mi butto B4 Potrebbe arroccare corto Eccolo Ha croccato Ha croccato Adesso La sua torre in F8 È già in F3 Secondo me Quello che sta vedendo lui È questo Ok E che cosa è Che vediamo noi Comunque il piano con B4 Ti voglio cacciare Il maledetto cavallo Da C6 E così Poi guarda il tuo alfiere Come trova una nuova vita All'interno della diagonale A 2 G8 E quello era l'obiettivo Era togliere la tristezza Quel povero Questa è bellissima Purtroppo sì Abbiamo il primo sfidante ragazzi Intanto ve lo dico Mi sono messi in coda Ho visto Ho visto È arrivata la prima sfida La vediamo subito Tra l'altro Ha un nome bellissimo Che io non pronuncio per rispetto Però ha un nome bellissimo Questa 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 Ragazzi Che proponete qua Non me lasciate da solo Dai Ma dai In questa posizione Credo che sia chiara A cavallo D5 È bravo Facciamo questa Prendiamo Cosca E poi Guarda Quella No l'altra Donna H5 Credo che sia La donna H5 La donna non mi piace Mi sta restando Perché poi Io ero più per una donna D2 E poi alfiere B2 Però c'è il pedone C4 Attenzione Allora io non volevo Allora io non volevo salvare C4 Allora io non volevo salvare C4 Perché volevo giocare Donna H5 Cavallo G5 E non vincere ma minacciare Che comunque la minaccia è più forte Ma perché donna H4 La Barbara Alla Conan Il barbaro proprio Ragazzi Mi hanno Mi hanno sfidato Io parto Aspetto Aspetta per favore Sta giocando Per far vedere la tua partita Dovresti aspettare che finisce questa E poi partiamo Se no Se vuoi giocare No 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 Sì sì No intanto lo Lo scrivo Ok D'altro scrivendolo Manifestiamo il delay Intrinseco della live Cioè nel senso Ragazzi Qua non so che fare Che dite voi Abbandoni Così gioca Abbandono Non lo abbandoni Aspetta No allora qua C'è una chiara mossa Se il fiere di 3 Basta Minaccina leggera Non di qualcosa di importante Ma leggera Ok Tradiamo tutta la vita Tradare Tradire Ok adesso Tradiamo tutto Bravo Bravo E poi non lo so Difendiamo C4 In qualche modo Allo D2 Bravino E poi Ricordiamoci Che questi 49 secondi Non ci spaventano In effetti Adesso che me l'hai ricordato Un po' sì Però C'è la fiere per E3 Minacciava L'opticismo Ma però in realtà Era difesa lo stesso Questa penso che va bene Wow Questa è strong Creiamo un attimo Una cosa qua Ma questo trade Ragazzi Adesso Adesso abbiamo quasi vinto C'è quel cavallo Che è rimasto fuori gioco Io penso che se gioco E4 F3 Re F2 Re E3 Ho vinto No Ma io credo di sì Certo L'importante è che non cade il C4 Stai in una botte Deferu Deferu Torre C7 Ma io devo mascherare la mia regionalità Torre C7 mi preme Però cambio tutto e mangio in D6 Però non posso Perché prende 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 E io non posso riprendere in D6 Perché c'è il matto in C1 Quindi non va bene Forza F3 Per F4 È tutto un prendi prendi Vabbè Fa F3 Se ti piace di più Vabbè Non mi piace niente F4 era molto migliore Chiaramente Cavallo dove lo metti Mui F1 No lo voglio cambiare Mi hai cambiato al C4 Il cavallo penso No perché Ah lo vuoi proprio cambiare Intanto consiglio Consiglio da parte di Bru Giova Che dice Ricordo che se sei un uomo E arrivi a promuovere un pedone Avendo solo re ed alfiere Devi prendere un cavallo Bravo Bru Giova ha capito tutto Delle mie lezioni Lui ha capito proprio tutto Di quello che volevo fare Io nella vita Con questo finale Non riuscirò mai a vincere Ma manca a pareggiare Probabilmente Ma è un problema questo Perché questo finale è vinto L'importante è giocarlo Però perso pure per il tempo Tra l'altro Quindi è andato Ma se perdi per il tempo Non si può Muovi il redd2 No ok No Pezzo in presa Vabbè amen Vabbè Segui Marco Per favore Marco Rispondete anche in chat Vado io Gioco con te Penso che sì Marco A te Ha sfidato È giusto Il signor Con il nome bellissimo Chiaramente Perché Ce l'hai? Sono il bianco Ma vai Qua siamo partiti Arriva subito Un gambetto Ve lo dico subito Io gioco tutti i gambetti Oh Beh Oh S'hai visto il video Marco S'hai visto il video Marco La sanno tutta a memoria Questo Bravo Bravo Bel gambito Che soddisfazione Che mi danno i ragazzi Che fanno i contro gambetti Allora ragazzi Non vi sto guardando Bibush Qua hai detto Eh sì Proprio lui Bibush Allora io direi Che lo seguiamo Quest'uomo Perché non posso cercarlo Tutte le volte Senza avere una possibilità Di In realtà sarebbe Anche ora Eh sì Mancanza tuo Bisogna seguirlo Marco Perché altrimenti Da dei problemi A questa posizione Io credo che il bianco Stia veramente bene E Quasi perso Sta minacciando cavallo di 4 No? Io ho quasi perso Però Vabbè Qua chiaramente È quasi perso Ma C'è donna di 3 Comunque Si soffre un sacco Ma Attenzione Non ho già un cavallo di 4 Devo dire che Comunque sia Adesso siamo contenti Questo ragazzo Sta giocando molto bene Abbiamo altre sfide Che ragazzi Vi prego di aspettare E mettervi in coda Così diamo modo A tutti quanti Di giocare Anzi Probabilmente dovremmo giocare A 3 più 0 Tutti quanti No? Per cercare di Velocizzare Anche perché Questa vi ricordo Che è solamente una prova Quindi per oggi Saremmo circa un'oretta Penso insieme E poi programmeremo Con più fortuna Una diretta Per le prossime volte Un po' più lunga Io in tutto questo Ci terrei a salutare Maurizio Grande zio Buonasera In questa In questa trasmissione Perché è molto importante Per noi In generale Non proprio Lo zio Però Chiunque è molto importante La chat è molto importante Perciò ci sei tu franco Io Per forza Raga Io sono qui Ma non per gli scacchi Ma perché voglio salutare le persone Uomo chat Chat uomo Ora chat cat woman Chat uomo Chat uomo Chat uomo E qui ragazzi Sta un po' Un po' stretto Stai un po' stretto In questa posizione Sì Sì eh Mi sento un po' Stringente Ma No Sta venendo una cosa Barbara Ma non funzionerà mai Ma io direi B3 Ah no Sì Il B bus Alleggerisce Perché vuol giocare Anche C3 Eventualmente Sul cavallo C6 Ma lui ti gioca A cavallo C6 Ah tu dici E se invece ti Faccio gambierello qua Vabbè Però tra dare Il bianco Dovrebbe alleggerire Ma anche perché C'ha un pedoncino in più Ma onestamente Noi lo dobbiamo Hai solo quello Hai solo un pedone In più Ho mangiato pesante Ragazzi Che devo fare Hai mangiato Un pezzo pesante Io non credo Sto ragazzo Io qua traderei È veramente bravo E qua O cambio Poi la vogliamo giocare Se sto cavallo Piove in F4 No vabbè Ma Io avrei Ridato il pedone Indietro Per una persona Ma guarda Io rispetto per tutti Ma paura No paura no Rispetto tanto E nessuno Bravissimo Com'era quella frase Quelle france Dei film americani La Vin Diesel No sono le france Rispetto per tutti Paura per nessuno Vabbè Indie 2 Lo mettiamo Se non vogliamo No Eh quello è il problema Eh vabbè Scaccaremo La perdita Ma lui non c'ha un re Marco Marco c'ha Leonida Indie 2 Eh ma questo è un po' Greve Bravo Veramente Ha giocato molto bene Ma infatti Questi 1669 Sono chiaramente fittizi Ma c'è un punto interrogativo Che stesso dicessi Ma questo veramente C'ha 1670 Esatto Esatto Ma poi questo punto interrogativo No Che ti fa capire Insomma Che è un giocatore Che è provvisorio È provvisorio Esatto Però il punto è che Destinato a crescere ancora Qui che cosa ci abbiamo Cambio cambio E poi Torre 1 Sì bravissimo Poi gioco Una sana mossa Di difesa Lui giocherà quella Eh vabbè È giusto Sì però quando è che noi Diamo indietro Il materiale Che abbiamo preso Perché questa cosa Poi lo faremo Si farà con Mi immagino Aia Vedi il ragazzo Come gioca Il ragazzo Gioca bene Il ragazzo Gioca bene Questo ragazzo Che gioca bene E qui c'è un chiaro Doppio attacco Eh sì Con minacce di intrufolamento All'interno della casa H2 Vogliamo indebolire Le nostre case scure A2 Qualcosa ci viene Qualcosa A noi qualcosa penseremo Vabbè A3 Il ritorno in D2 Penso che Se può fare Sì però Noi lasceremo B2 in presa A un certo punto Vero Eh ho capito Ma piuttosto che meglio E meglio è piuttosto Ah no Piuttosto che niente H4 Incredibile Arroganza Nulla di E noi Adesso ci mangiamo E bravo bravo Lasciamo tutto in presa Ah io la butto a un cacciara Tutto a zenda De colpo Vendo un torrone Vedo eh Attenzione Spingiamo anche In E3 In E6 In E6 Boom 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 È lo spumantino Incredibile Però non possiamo entrare in E4 con la donna Però possiamo minacciare di promuovere no? Ma che promu... Ma prendiamo matto prima di promuovere in questa posizione io spero Come 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 come? Ma non lo so Ma non lo so in qualche modo da ramatto Il ragazzino è forte Ragazzino Poi magari c'ha 40 anni E adesso non si può prendere Attenzione Attenzione promuove No Questo sacrificio Va per questi 4 secondi Ma donna scacchi Perché il conto scacco Non si aspetta nessuno Aspetta la donna in presa Mangio tutto Spingo scacco Ah io Io sono un grande tifoso Eh il Bibus Bibus c'ha il dito più veloce Grazie a casa la donna Grande partita Complimenti Il ragazzo gioca bene Molto bene Complimenti Argue Bene Io ho in coda Braxton E voglio accettare la sua sfida Andiamo a cercare Che tra l'altro è l'unico dei ragazzi che è rimasto in coda Quindi merita Sono il nero Prego Braxton Mossa a te Secondo me Il nostro amico Lirno Lirno Scusami E 4 Best by test Diceva Fischer E' il famoso 1.6 mascherato Questo uomo secondo me vuole la rivincita Uomo è massacra in 10 mosse tipo Perché meritava questa partita ma Ha giocato bene veramente Si è stata una bella partita Ha giocato molto bene L'attacco al petone isolato L'ha giocato molto bene Perché l'ha combinato con l'attacco sul re E' stato molto bravo Attenzione eh Questo ragazzo scrive che ha 2200 bullet Oh Qui se non ci gioca Bravo Non bisogna pensarci Bisogna muovere i pezzi Capito E' uno forte forte Bravo E ha giocato bene Ma questa Najdorf Mi stai giocando Ma Direi la verità non è nemmeno una Najdorf Non ha giocato piano c3 Quindi noi stiamo cercando comunque di rientrarci Per via traverse E vediamo che cosa succede Sicuramente me giocherà un piano con C4 ed F4 Probabilmente in futuro Ma vediamo un po' Perché tu sai che io Non giocando E4 Tutte le siciliane con A6 Per me diventano Najdorf Che poi Najdorf Che non sono una Najdorf Eh non sono Najdorf Però sono con la J Najdorf Sono qualcosa di un po' simile Un po' no Che crei che hai detto? Najdorf Ma che cosa? Chi sei? Intanto Io non inizierei a prendere in giro per l'eloquio Perché non credo che il tuo sia assai migliore Del mio Medesimo Io no Questo non l'ho mai detto Che cazzo sta Come se fosse Antani In tutto questo Sì una supercazzola Con scappellamento a destra Probabilmente qui Questo è un impianto ibrido Perché abbiamo mescolato un po' la linea Con l'alfiere G5 L'alfiere perde un tempo importante Penso L'unico vantaggio del bianco Penso che sia Che non ho l'obiettivo D'attacco chiaro Del re arroccato sul lato di donna Per il resto Il nero sta abbastanza bene F4 Un grave errore Come un grave errore F4 Abattito Si prende Interiore si prende E si gioca cavallo 5 Esatto Però io gioco Gioco questa linea Così perché è più truccaiola Ed è divertente Ma non è divertente È divertente Perché si cambia Se gioca B4 Si attacca C2 Questa è l'idea Barbara Eccetera Poi spesso in qualche linea Resta sotto il pedone di E4 I tatticismi con l'alfiere Ho capito Ma guarda il tuo pedone in D6 E dimmi quanto è brutto Ma io lo voglio sacrificare quel pedone Per attivare il mio asciutto Ah Voglio sperare Infatti tu l'hai visto Sa che asce subito Se toglie Giochiamo un po' con sta torre Così lasciamo spazio A qualche pezzo Che eventualmente Vorrebbe difendere La F8 La F8 Ma io ho visto Delle cose Che voi umani In questa posizione Non potreste nemmeno No cammino Fondamentalmente Minacciamo di fare B4 E guadagnare C2 A un certo punto Eh si Ma magari Introduciamo il cambio Della F8 E prenderebbe di pedone E poi mi spara la torre in faccia Sono tutte cose Che io non è che vorrei proprio Io faccio B4 Perché se mi gioca cavallo D5 Cambio e va bene Se non la gioca E gioca qualcos'altro Probabilmente C'ho cavallo per E4 E quindi Eh in questa posizione Potrei dire che Questa mossa Potrebbe essere sconcertante Per il nostro Braxton Che ricordiamo Ha sempre 1.6 Ma non c'è il punto interrogativo Sì Più che altro Adesso c'ha difficoltà Con il tempo Siamo in una posizione Che sta iniziando A complicarsi E non ha il vantaggio Di poter pensare Quanto dovrebbe Quindi Sosio Ci devi pensare più però Ci devo pensare più Io Io ho provato A usare il flash talking Consigliarti le mosse sbagliate Però tu sei stato cattivo Nei confronti Di questo Braxton Io continuo Con il mio Attenzione Dalla chat arriva Un uomo incredibile Un certo C'è Stio Romualdo Grandissimo Ciao Romualdo Ti abbiamo ascoltato E siamo finalmente Approdati Sul Su Youtube In diretta Sto studiando Per un esame Ma dovevo per forza Passare Grande Romualdo Bella partita Braxton Un po' complicato Ragazzi Non andate Mi raccomando Non andate a seguire Romualdo Perché non merita Il seguito Sì Romualdo Ti abbiamo seguito Sui social Abbiamo visto che stai Impegnatissimo Con lo studio E che quindi stai Limitando un po' I contenuti E questa è una cosa Che ci dispiace Però siamo contenti Che ti stai impegnando Pello studio Quanto meno Ci è fatto piacere Che stai passato Perché sappiamo Che stai molto 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 impegnato Grazie di cuore Che è una visita Che ci fa veramente piacere E quindi Hai vinto qua E quindi sì Sono stato aiutato Dalla mancanza di tempo Dall'avversario In una posizione complessa Si è trovato Senza tempo Quindi è stato difficile Trovare Molte mosse Gli diamo una rivincita A questo ragazzo Io aspetto sempre Spide Però potrebbe essere Un po' Un po' confuso Val Stefano Questo ci ha sfidato Anche prima Val Stefano Ci ha sfidato anche prima Adesso è tornato Alla lì Ecco un'altra siciliana Oggi toccherà Oggi il giornale Si fa Romualdo Perché noi siamo fortissimi Noi ci stiamo Alle Calcagna Ci avremo 600 E passi iscritti Di differenza Siamo lì Ti stiamo prendendo Comunque Il signor Arceri Dopo essermi addormentato A vedere la Ferrari Mi guarda un po' Di sano cazzeggio Bravo Tu sì che hai capito Che devi fare La domenica Io me la ricorderò Sempre e solamente Per la Formula 1 Che mi faceva addormentare Con il gnio 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 Certe dormite Arrivavano Mamma mia Ma pure col ciclismo Onestamente Non si offendano Gli appassionati Del ciclismo Ma le meglio dormite Me le so fatte Sempre con le gare Di ciclismo Formula 1 Io la Formula 1 Certe dormite Proprio Storiche Ma qua forse ho toppato Giocavo prima B5 Alfiere B7 Eeeh Vabbè Ma comunque No perché poi Sul cavallo C3 Avevo B4 In extremis Che caccia il cavalluccio E guadagna il pezzo Invece adesso è diverso Perché gioca Cavallo C3 E c'ho un tempo in più Per difendere eventualmente E4 Però minacci B4 Beh minacciamo B4 Però minaccio Minaccio ma non In realtà Attenzione Signor Franco Sini Che ci manda un gattino All'interno di una scatola Ringraziamo Ma non ci piacciono i cattini Non siamo del Veneto Non siamo vicentini Io Attenzione L'Iners Scusami cari Io il tuo nome non lo so L'Aernso Ha deciso di sfidare Alex Alla prossima Così da avere una Guarda se mi sfidi Bullet Io penso che mi scoppi Perché io purtroppo Devo ammettere Che nelle partite rapide Sono molto molto scarso Cioè i millenove Ma non è vero No no Nella velocità Io sono abbastanza scandaloso Lo ammetto Però Mi farà molto piacere Giocare con te Perché ho visto che sei Un ottimo giocatore Hai messo in difficoltà Marco E non è Una cosa che Che ha poco Giocatore Gioca Veramente bene Marco picchia Marco è picchiatore Quindi qua ti sei mangiato Il sano pedone in più Io qua mi sono mangiato Il pedone da piano Proprio Però adesso Bisogna vedere un po' Come si gestiranno Le complicazioni Penso che cambiare Sai sia una scelta sana E poi pensare un po' Allo sviluppo No Restituisco il pedone Senza rendermene conto Ma non fa niente Ho sviluppato I pedoni si danno indietro Dai Ma si Se fa così Sono amici dai Allora Christian Arceri In che rapporto È stato con Christian Di Matteo Scacco Non lo so Non lo sento io Ciao Non conosco Stavo vincendo con Marco È chiaro Ma io stavo tifando per te L'Armso Ma anche io tifavo per lui Cioè ne equivoco Stavi giocando Conflitto di interesse A un certo punto È brutta male per la Ferrari Ma io Christian lo conosco Perché per un breve periodo Ho collaborato per il suo canale Come molti sapranno Mi sarà capitato Di vedere qualche video Sicuramente Perché c'è un canale Molto grande Però Se devo dire che ci sentiamo Eccetera No Attenzione Franco Sini Decide che Non ci piacciono i gatti E quindi ci manda Una foto con gli occhiali Cioè un emoji con gli occhiali Molto bravo Marco Con un momento diplomatico Se vado a risare pure lui Eh in effetti Sei un po' democristiano In questa live Cioè diciamo Beh diciamo che Sei un po' al domoro Vogliamo che il canale Continui a restare aperto Insomma dai Ragazzi Se mi scateno è finita Se te scateni Fai come Udini Ragazzi voi non lo sapete Ma Marco Ha un po' di problemi In questo momento Ragazzi non ti ho cosa fare G6 politica G6 politica proprio Re G7 Mi chiamiamo il re Facciamo leva un po' Su sto minuto in più Che abbiamo sull'orologio Quando non sappiamo Che cosa fare Consiglio pratico Consigli per gli acquisti Queste mosse Sono un po' per aspettare La quarantesima Solo che non c'è la quarantesima In questo gioco No Non c'è la quarantesima E penso che Voleva giocare cavallo G4 E fare cose strane Io intanto Dico che Non sai che c'è? Non sai che c'è? Non c'è Gioca Gioe Gioca Gioe Ma se lo cambiamo Sto ciuccio? Ma no Ma tradare è tradire Non si trada Come cambia i pezzi Come cambia i pezzi il socio Comunque C'è cambia tutto Capito? No C'avevi affieri C4 Oddio ce l'ha ancora Ce l'ho ancora Ce l'ho ancora Ma dai Però non la fai Perché sei un uomo Eh capito Sarebbe in politica È scorretto È scorretto È scorretto Non giocate Ne mossa Io l'avevo già fatta invece Cioè senza pietà Eh ma tu sei uno De quelli che Capito come Guarda non la faccio quella Ma faccio il torre C4 Così non puoi farla più La mossa dura Esatto Mi sono tipo castrato Autocastrato Adesso torni dietro con la torre E minaccia il C5 E la minaccio dici tu? Torni indietro con la torre Minaccia Ma uno scacco in amicizia Se può fare Una G3 che fissiamo Sì Stai fissando nella vita Non guardare niente Quei complimenti a Stefano Perché si sta difendendo bene Io Quello bisogna dirlo Anche difendendo Questo uomo sta chiaramente Attaccando La posizione è vinta per il bianco Si sta difendendo bene Con pochi secondi Il sacrificio di donna Mirato a stallare Chiaramente è una persona fine Il nostro avversario Abbandona Abbandona per rispetto Ci aveva 5 secondi sull'orologio È andato un attimo nel panico Ma non è vero E la posizione era chiaramente Vinita per il bianco Ti ha voluto graziare Vabbè Fammela camuffare Avevi solo una donna in più C'ho ancora due sfide C'ho Astore E Chi è che è stato 10 più 5 ragazzi Mi dispiace Non giochiamo Se mi risfidi a 3 minuti O a 5 Va bene Più giorni No 3 minuti È dura 3 minuti Linz Ecco qua Questa è quella persona Che ha giocato con Marco prima Se non sbaglio Vai vai Grande Linzo 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 Questo è il gambettaro come te G3 Va bene G3 Io non credo Che questa mossa Sia un po' gambettosa Apertura Benco Io voglio giocare L'attacco A me mi ha tirato i pezzi addosso O te invece Stai giocare tranquillo No No Mi spara Ecco Io 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 conosco Sì finti tranquilli H4 Adesso noi vogliamo Trovare in modo di giocare F5 Giusto Lo scendiamo E mi piace questo Perché poi Facciamo questa Semplice Stai Stai benoni Dai Vedi come cambia i pezzi Guarda Ma scusami Il tuo piano è cambiare i pezzi E dire io sono più fatta Il mio piano adesso È giocare sulle case scure Però non posso farlo Fino a chiesto Ritardo di sviluppo Quindi voglio Un attimo Fare Il ragazzo parta all'attacco Vedi Il ragazzo parta all'attacco Perché vuole fare ciò e ciò Io che cosa Che cosa vuole fare in concreto Pensiamo Che cosa vuole fare Vorrebbe darmi lo scacco in F6 E cambiarmi il suo cavallo Con l'alfiere delle case scure Che vorrei tenermi Perché vorrei attaccare 3 Quindi faccio prima un F6 Che gli caccio il ciuccio No E poi cambio Poi faccio C6 Così cambia lui Eh ma le due case chiare A un certo punto Dovrebbero iniziare a preoccuparsi No Fina che ho Fina che ho il padrone di casa In D7 Non succede niente Guarda quelle ciabattine Guarda quella a cappa Che fortezza Ho capito che c'è quel robo in D7 Però io vedo pedoni centrali Che avanzano Ma farla finita Guarda qua come sto solito Gioco donna per E7 Torre A in E8 E poi spingere F5 Che è un buone condizioni Ed è appunto Questa tua solidità Che ti impedisce Di vedere la dinamicità Del centro mobile avversario Guarda Guarda sto pedone in E4 E sto pedone in D4 Ma sì Una volta che spingo Sono pedoni deboli Eh sì Eh lo so che sono pedoni deboli Ma tu per con chi stai Franco Voi non capite Allora io Io Quando Dovessi fare già alfiere per H3 Ma non si può suggerire no? O si può suggerire Allora io qua So indeciso Perché alfiere per H3 È una mostra che ho pensato Però voglio sapere un attimo Se mi conviene realmente Cambiare il suo alfiere Per quel cavallo triste Però cavallo non è così triste Attenzione Però da mangiare il pedone Perché poi minaccio F5 Che gli chiude l'alfiere Gli attacca D4 E poi Vediamo un attimo Qua piazziamo Torre P Nel caso che cambi E poi Non so Non so se cambia Però penso che sì Perché se no Deve perdere il tempo a ritirare Non saprei Donna B3 scacco Scusami Donna B3 scacco Penso che Chi dà scacco senza scopo Se ne perde primo o dopo Quindi facciamo D5 Riuscire a prendere Il pedone in D4 Comunque Partito interessante Però possiamo dire Che il bianco C'ha un re molto debole Rispetto al nero Sì Mancando il pedone di F E avendo spinto H Se riuscisse a giocare Se riuscisse a giocare Donna B3 scacco F5 Tirare fuori l'alfiere Ovviamente sarebbe un casino Ed è ciò che farò Scacco Questa Ora scusate Io voglio farvi notare Che in questa posizione Emilio Vivacqua Ci sta dicendo Che siamo La jalapas band Degli scacchi E Romualdo Grande Quel grande uomo Scarso Non capisce Che c'è un sacco di lei E quindi non può suggerire Le mosse Eppure fa anche lui Lo stesso Che suggerire le mosse No cioè lui mi dice Torre F7 Ma torre F7 Quando Torre F7 Chi Torre F7 Cosa Vabbè ma Tipo torre per C2 E poi aspetto Sigaretta in bocca Subito Io pensavo più a torre F E8 E poi prendere in C2 Eventualmente Perché mi vuole giocare Torre G2 La prossima lui Però c'è torre per C6 Che poi non riesce più A prendere Ma quando c'hai ragione C'hai ragione Marco Ma questo pedone Ah non è in pre Attenzione Questa è sigaretta in bocca Perché attendi l'avversario Mentre pensa Ma minaccio Minaccio anche torre per B2 Tra l'altro Scacco a re E noi ci togliamo Semplicemente Come il nostro Scacco a re Mai per te Mai per te Sì ma ci puoi Ti puoi accettare I succedimenti Se lo che devi fare Il bello che di scacco Di scacco Di scacco di C6 Non c'ha più Reggi 2 Perché c'ho lo scacco In E4 Violento E me lo mangio L'alfiere Quindi adesso E' più difficile Liberare con la situazione Contorta delle torre In F2 Quindi minacciamo Realmente torre per B2 In questo momento Quindi questo scacco Che non hai considerato Però Quello che non hai considerato Però è che Regrock ci sta chiedendo Ma gioca solo Alex No gioca anche Marco No gioca Marco Però dovrei sfidarlo Ovviamente Se mi sfidate Se non mi sfidate Io commento Che mi va bene Vogliamo dirlo Che ci piace ugualmente Come si fa a sfidare Le persone O vogliamo pensare Che loro siano tutti Imparati Cioè Perdonami Allora tu Il signor Regrock Se vuoi sfidare Una persona tipo Marco Una persona tipo me Se c'hai voglia Di vincere facile Tipo Devi semplicemente Aspettare Che la partita finisca E farti dare E farti dare il nostro link Così che tu possa andare lì Grande Romualdo Ecco qua E' quell'errore Che tanto Di cui parlavamo Lo scaccuccio qui Lo scaccuccio qua E poi prendo qua Questa è mancanza Di professionalità La nostra chat Non è felice Della tua Immagino che anche Marco Bisogna sfidarlo Nel blitz Oppure c'è terapia No è meglio blitz Perché così Facciamo Giochiamo tutti ragazzi Più che altro Questo è il discorso No no Non mi dì che la fai Donne 3 La stavo per fate Giuro Mi hai fatto cambiare idea Perché mi hai fatto sentire Un codato Eh si È troppo È troppo Donne 2 dai Brutto Ah la cambiata lui però Eh la cambiata lui La cambiata lui Che devo fare Si ha tolto ogni dubbio Se c'avevo un bravo Se c'avevo qualche dubbio Me l'ha levato lui Attenzione Promuove No Appena Appena finito Alex Accetto Regrock Ok Ok Quindi dovremmo andare Su BB Grazie per la partita Però immagino che Lirnso Chiamiamolo Lirnso Rende molto di più Immagino Nel gioco dinamico No Con Marco Non ha dato prova Quindi penso Che abbia 5 più 3 Mi ha sfidato 5 più 3 Ok Chiedo scusa A chi mi ha sfidato Andiamo a seguire un po' Marco Così facciamo contenti 5 più 3 5 più 3 Ma si dai Gliela concediamo una dai Tanto meno E due e quaranta Dai Ma Questo ragazzo È uno che ci segue Io lo conosco Molto Molto bene Eh ma quindi C'ha l'elofasullo Eh Possiamo farlo abbracciamente Visto che questo qua Un elo basso Vai Pedone Pedone Maledetto Gli dicevi cavallo Lo facevi contento No Eh io non la so la siciliana Quindi riescerò a cose Pedone Ma quindi la giochi tu Eh no Io ti dico le mosse Tu le devi fare Ok vai Ah Quindi tu sei solido Io pensavo di sei Eh Cavallo Io non la so giocare Sta roba Eh ho capito Ormai è partita Eh ma tu hai proposto Franco Io a questo punto Direi Don Donna Don Scusami Bisogna controllare La casa E 4 E 5 In qualche modo No Non so se è una cosa sana Beh dopo muovi Non lo so In un qualche modo Io non la so la siciliana Cioè io perdo In queste posizioni Vabbè ma va bene dai Al massimo perdiamo Vabbè ma è chiaro Ma dobbiamo perdere Io sto giocando Col tuo rating Stappito No è amichevole Quindi non ci interessa In realtà No come amichevole Ma comunque Ricordiamo tutti quanti Rating non vale nulla Non serve a niente Quindi Allora quindi noi Dobbiamo controllare Un paio di case Allora Alex per favore Perché dobbiamo parlare È una partita molto seria E mi sto impegnando Metto subito In muto il mio microfono Allora Allora chiaramente Ci sono dei problemi Con degli scacchi di cavallo Quindi io Proporrei pedone Però pedone ti dà la possibilità Di fare quello che vuoi Quindi Infatti farò quello che voglio Marco fai finta Che non capisci I suggerimenti di Franco Ma no Ma in questo modo Sì 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 Offre un trade Ah io te lo mangio di pedone Sto cavallo Sappelo Va bene Pedone Ma decido io quale pedone È certo Di perdo ovviamente Bravissimo In spirito Grazie Grazie A questo punto Direi Biscioppalo Biscioppalo Aspetta che C'ho due biscioppali Eh per troppo sì Penso uno si imponga Sull'altro Ah Purtroppo è quello vero Facciamo un biscioppolo Adesso bisogna vedere Questo Ah attenzione Qua c'è un attacco chiaro Allora io vedo Dei tatticismi Incredibili In questa posizione Diciamoci il vero Franco non ci fidiamo Della tua visione tattica Te lo vogliamo E' dato te Perché io ancora Non vedo niente Peon Eh? Leone Peone Leone Adesso Chiaramente qui c'è Una mossa fortissima Dopo che prenderà Di donna Chiaramente Il nostro avversario Romualdo scrive Ho notato solo ora Il braccio del microfono Alex Ti sei buttato sul professionismo Ma in realtà Il braccio ce l'ho Da diverso tempo Questo mi dimostra Che è molto tempo Che non guardi i nostri video Caro Romualdo Ti sei proprio dato La zappa sui piedi Cavallo va bene Vabbè ma sta a studiare Ma sta a studiare E lo giustifichiamo E poi vogliamo Un sacco di pena Franco Ci abbiamo Con me cavallo va bene Io ti sto dicendo le mazze Però se non mi ascolti Eh no ma non te sento Ci abbiamo tipo un minuto in meno Tanto È giusto Ho capito ma È normale Noi non dobbiamo vincerla Questa partita Non so se è chiaro Va bene Insomma quindi Mi stai a far giocare Per far perdere la faccia Subito a me Grazie Ti ringrazio Però è per dimostrare Che io sono scarso Cioè D'altro la Sicilia È proprio la Sicilia La gioca delle altre predecenti La scandina va La Pirc Ti dico come funziona Quando siamo sotto i 30 secondi Fai tu Mi parte il pilota automatico Quindi io Sì è tipo un rap A Marco gli viene Quando sei sotto i 30 secondi La mano si muove da sola Ricordate Aldo Giovanni e Giacomo Quando facevano i poliziotti Facevano Sugar e Dexter Quando Giacomo diceva Che la mano che impugnava il manganello Si muoveva da sola Marco è uguale Quando arriva sotto i 30 secondi È un po' Sugar Peon 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 Appena risuperiamo i 30 secondi Però poi continua a dire mosse No facciamo 20 Siamo uomini Nella nostra vita Sì Allora io non vedo Grosso futuro Per il nostro Fiera delle casecchiare Quindi dovremmo inventarci qualcosa Peon Ci dobbiamo trovare un lavoro Pedone Mamma mia Allora io ti dico Obra Mi piace questo Tuo indebolimento Delle casecchiare Che schifo E infatti volevo giocare a B5 Però Ma in realtà Non è così malvagio tutto Volevo giocare a B6 Non diciamo stronzare Cioè il vero problema È che c'è un cavallo in D4 Che è difficilmente Dissime dalle vane È un po' greve È un po' greve Perché non abbiamo pedone in C5 Va bene Quindi noi adesso Re Con l'accento di la E Io proporrei In futuro Alfiere D7 Alfiere B5 Anche lasciando il pedone Ma togliendo quel cavallo da là Che sennò Vediamo che mi fa giocare Franco Allora Tu non devi aspettarti Di giocare delle mosse belle A questo punto Alfiere dai Seguiamo il piano del soci E patapim e patapam Bravo Ecco esattamente L'odore di pasta con le sarde Ricordi There are some issues here I want to play Queen in this position Queen? Queen in this position Ok It's fine Si push ancora Di nuovo Queen Mamma mia Che brutta partita Che sto giocando Vedè ma è Perché la sto giocando io In realtà Cioè tu non capisci Non mi compro il problema Che abbiamo Dei pezzi un po' brutti E i suoi pezzi invece Sono buoni No Però per il resto I pezzi sono pari Cioè nel senso Per adesso Ok Finalmente Io qua mangerei Un pedone Cioè io ti direi pedone In questo momento E poi arriva E poi arriva un tatticismo Veramente brutto No ancora non arriva Mangerà la donna Ok quindi Torre giusto? Non funziona? Se dici torri Io muovo la torre Eh ok Mettiamo la torre Sulla colonna aperta Scusami Mettiamo la torre Sulla colonna aperta Sposteremo l'alfiere In B5 In questa posizione Sta diventando Quasi decente In questa In questa mia In questa mia Visione del gioco Mi sembri molto sorpreso Di questo però Franco Ma io speravo Di perdere Ma io vedo anche Dei piani Con torre D8 Alfiere F8 Alfiere C5 L'avversario nel mentre Non ha mosso alcun pezzo E poi ci mandiamo No nel frattempo D'ha messo L'alfiere e la donna Sulle case scure T'ha dato matto In G7 forse Sì sì esatto Stiamo giocando Per perdere Ricordiamoci A questo punto Io ti direi alfiere E Marco Non aspettava altro Qua La donna Sulle case chiare Scusami Adesso Guarda ste torri Che entrano su colonne Diversamente chiuse Cioè Diciamo C'è la donna Che Veramente Ma io penso Che il nero qua Debba cambiare tutto Andarsi a giocare al finale Con la coppia degli alfieri Con quel pedone De 5 debole Noi all'estero Diciamo Per un tatticismo Stupido Tu non hai capito Il nostro avversario Farà qualche errore Adesso Mica tanto Questo vuole sfianchettarci Nella nostra vita Quindi io direi torre Torre Però è una scelta tua Puoi essere più cruento Puoi essere meno cruento Cioè con cruento Vabbè Non ti posso dire Cosa intendo Chiaramente Perché Non sapevo io che non la cambiavo Ma non volevo cambiarle Io in realtà Ma no Tu Qua io direi torre Ma non lo so Una scelta tua Hai diverse mosse Di torre Eh no Purtroppo Lo sapevano Il problema è che non abbiamo Una bella Comunque Facciamo i complimenti Pure all'avversario Sta giocando Veramente bene Tiene botta Tiene botta Tiene botta Comunque Non sta facendo errori Sta giocando È veramente bravo Ma non possiamo Tradare in questa maniera Scusami Cioè Abbiamo appena fatto i complimenti Poi mi tradi tutto Che bello Eh lo so ci sto pensando Devo trovare il modo Di non cambiare Ste torre Però perché Tu dirai di torre Eh ma è troppo facile Di torre Beh ti dico Ti vorrei dire donna In questo momento Quindi ci penso Tanto abbiamo Molto più tempo di lui Dai Donna Ah io ti dico Ti dico donna davvero Perché ci sono Chiari piani Mi è salito un brivido Lungo la schiena Al momento Eh Qua ci sono Chiari piani Chiari piani Bruttissimi Comunque Franco Sei un truccaiolo Cioè Mamma mia Ma non è brutale Proprio nei peggiori Bar di Caracas Hai imparato Da scacchi Ah intanto Le peggio blitz Di Caracas Donna Sono Solo nel mio video Che io vi consiglio Di guardare Perché E che noi consigliamo Di non guardare Ovviamente Tra l'altro C'ho 400 Ok Questa è una bella mossa Da parte del nostro avversario E noi faremo Una mossa incredibile Di alfiere Credo Va bene Vedo un'impresa Io Lo magno No Scusami Vedo un'impresa Lo magno No Franco Valeva sul fatto Che alfiere per 5 Non sia possibile Per via del matto In C1 Venga Glielo devi pure spiegare Cos'è 104 Alfiere Ti ho detto Sì Eh ma io Ecco Però io Io faccio un po' Da Alex traduttore Però Marco Non vuole darti L'alfiere Posso anche decidere Di non darti L'alfiere Zì Esatto Non mangiare Il bidone E questo era Devo fare un po' Da intermediario Per tutti e due Perché io sono Un livello intermedio Tra voi due Quindi posso capirvi Entrambi Ah vedi che lo mangia Perché comunque Io il bidone in presa Li mangio tutti Anche quando sono avvelenati Ma io L'ho mangiato solamente Perché Perché guadagli un pezzo No ma non è vero Che guadagli necessariamente Un pezzo Cioè tipo Donna H6 Scusami Ah mangi un pezzo In effetti Cioè Donna E3 E c'è Donna E6 Esatto Donna E3 Donna E3 E te salvi un attimo Però Donna E3 È particolare Perché invece di Donna E3 C'è Su Donna E3 C'è Donna C4 Probabilmente Che devasta l'avversario Eh lo so Però anche in quel caso Adesso è possibile Cambiare gli alfieri No E quindi Può giocare anche Il grande Romualdo Attenzione Su Donna E3 Sai che cosa mi piace A me Alfieri per F4 Donna per F4 E5 E5 Eh sì Forchetta non può mangiare Perché c'è matto È incredibile Sta forchetta Hai ragione Però potrebbe avere Delle cose interessanti Madonna C4 Anche subito vince Immagino Eh però Però scusatemi A questo momento Io ti direi Tutto questo casino Alla fine Donna Donna Leggero Ok Comunque Franco Sei una persona disgustosa Sappito Ma che cosa Ma che cosa è Adesso Adesso Questa cosa La devi provare tu Con Franco Così ti rendi conto No 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 È che non la voglio provare Con Franco Questa cosa Ah io credo Che sia corretto Invece fare questo Bracciomente Perché se Il nostro amico È riuscito a vincere Eh Chi è il prossimo Allora io qua C'ho due sfide In corsa Diciamo C'ho Braxton Un'altra volta Con cui ho già giocato E c'ho Forna A Che non Io Ho Mr. Bironics Che è un ragazzo Che ci segue Lo guardate Da un gruppo E un altro Che c'ha Punto interrogativo Io questi Mi sfido più Col punto interrogativo Eh Mille e cinque Sfidi tu Eh ragazzi Tocca a me Tocca a me Allora Sfiderò Sfiderò Mille e cinque Col punto interrogativo Intanto Romualdo Ci chiede Se Madonna C4 È una bestemmia Scrivendo Madonna C4 È una bestemmia Bella domanda Diciamo Diciamo a Romualdo Che queste battute Da infanti Non sono ben accette E lo banniamo Adesso Io vorrei ricordarvi Che Reg Rock 2003 203 Cioè È stata una bravissima Persona Che a un certo punto Ha panicato Per il tempo E la connessione Quindi io Gli farei un applauso Perché ha giocato Molto bene Io ho giocato male Dall'inizio della partita Ha giocato veramente bene Però ragazzi Qua ci stanno arrivando Mille sfide Quindi dobbiamo giocare Ok Quindi Chi gioca quindi Io sto giocando già Della verità ragazzi E allora Diccelo È un ragazzo Goloso E io so Fatto un po' così Attenzione Che c'è una Tentativo De Gambetta Donna Rientriamo Nella Benoni E mi piace molto Giocarla Benoni Ragazzi Sapete cosa vuol dire Benoni In ebraico Figlio del dolore Figlio del mio dolore Son of sorrow Esatto Vabbè Delle volte Uno si sente pure Benoni Cioè Non è Non è obbligatorio Sentirsi Sono il figlio Del mio dolore Non è obbligatorio Sentirsi Malakov Uno può pure Sta Benoni Esatto Talvolta Lo sai Allora Ma idea ce l'abbiamo anche Però ci servirebbe Ma ne abbiamo troppe Forse Sì Facciamo tipo L'effetto imbuto Troppe idee Che poi canalizzano E non riescono A cagarsi Praticamente Alfiero F4 È una linea Che contro la Benoni Mi piace molto Perché ricorda L'Hondo System Ricordiamo che L'Hondo System È una delle partite belle Ti spiace Romualdo Ma non è per questo Che la gioco No perché È una mossa Molto fastidiosa Diciamo Il pedone di 6 Solitamente È un pedone Che Il nero deve stare Molto attento Però guarda I tuoi pezzi Sono esattamente Messi come se fossero In un gelobava London System Nei confronti Della Est indiana Ma c'è un pedone In D5 Attenzione O a London System C'è un pedone In D5 Sì ma Non è vero C'è niente di quello Che dico Vedo un pedone In presa È vero Perciò mi piace Salina Perché è difficile Sviluppare bene I pezzi Però scusa Se tu prendi Pedone in presa Sei veramente Uno brutto Sfiera H2 Questa è la mossa Proprio Solida Io mangio pedone in presa Minacciando matto E don matto Ma tu sei triste Mangiando pedone in presa E basta Attenzione C'è un pedone debole Bisogna mangiare tutto C'è un pedone debole Che noi spingeremo E noi lo sdeboliamo Allora Attenzione Questo pedone Potrebbe iniziare A dare dei fastidi All'interno Dell'apparato gastrico Del nostro avversario Quante cazzate Che spari In franco Mamma mia È un medagliatore Di puttanale Allora guarda Abbiamo trovato sicuramente Un lavoro da fare A quell'alfilio in H2 Che può sembrare triste Però sta là Che se guarda Il pedone da lontano È un po' come un genitore Apprensivo Che da lontano Guarda il figlio Che gioca le giostrine Fai i cavoli suoi Sulla panchina Però l'occhio Lo butta ogni tanto Non al figlio Vediamo un po' Se sto genitore È abbastanza distratto Da perdersi il figlio Social non ci hai pensato A che mi pensi Guarda Quando c'è un pedone in più Io Sono molto pragmatico Però adesso Dobbiamo prestare attenzione A mosse Come torre 6 E cose Vabbè Non è mai una minaccia In realtà Il ff8 Forse lo è Io giocherei Donna D2 Pensavo addirittura Alfiere D3 No È perché voglio Voglio difendermi No mi difendo B2 E minaccio di fare Torre D1 No che mi difendo Sto pedoncino No mi piace Mi piace Mi piace Alfiere D3 Torre B4 Che fai? B3? No non puoi Adesso B4 No scusate Alfiere D3 Che diceva Marco Torre B4 Tu che fai? No io adesso Fossi nero Te farei cavallo a 4 No no Invece di Donna D2 Lo suggeriamo Invece di Donna D2 Se tu giochi Alfiere D3 Torre B4 A cavallo a 4 Scusate Non abbiamo Una donna C2 Al volo? No c'è Alfiere F5 Buh Alfiere F5 Ah vedi ragazzo È solido Senti io qua Dovrei Penso Vinsi tu? Giocare subito Torre D1 Così posso giocare B3 in futuro Altrimenti non la riesco Mai a giocare Fino a che Quell'alfiere in G7 Punta tipo lancia In A1 No? Eh sì È forte Quell'alfiere brutto Ma in realtà Nella sfiera Campochiaro Dove vuole andare Sto all'apposta Dove vuole andare Nella sfiera Campochiaro Nostro Scusatemi Andare per forza Da qualche parte Oppure sta a casa Eh non è in due Se sta a casa Non gioca Nella nostra torre Nel nostro re E in due Mi piace Adesso 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 Se mette sul divano Non è in due Tranquillamente Quindi abbiamo lasciato Un pedone in presa Ah no Non è vero Dove? In B2 In B2 In B2 Eh Che non viene mangiato Però Non viene mangiato Quindi il pedone Non era azienda Non era in presa E quindi si può Continuare la partita Difendendolo con B3 Magari Ma sto pensando Sto pensando Possiamo fare Anche questa però Eh Non è male Non è male questa Io gli darei la torre sopra A sto cavallo No E perderesti Miseramente No? Chiaramente Prima mettiamo Oddio Questa è una bella mossa Arrocco Prima che mi dimentico E vabbè Al fiere per C4 Alla prossima Sarà l'idea Se gioca B5 Giocherò A4 Comunque Si sta difendendo bene Con le unghie E con i denti Oh Se i 1.5 Mi hanno come Guarda che non lo so Eh ma stiamo a giocare Con i 1.5 Picchiano Picchiano Adesso però Questa Attenzione Abbiamo trovato casa Al fannullone De casa Per chi ha visto il video Eh questa è un po' Questa è un po' dolorosa Da parte del nostro Cioè Questa è proprio Da parte nostra Sì 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 Eh l'hai proprio infilato Eeeh Qua è Attenzione Contro giocone Contro play Contro play Spara cavallo per C3 Attenzione Eh Ci prendiamo questa qualità E siamo contenti Da un punto di vista Non ci prendiamo niente Ah sì sì Da un punto di vista Materialistico Su più che altro No Garo etico Avraci Vediamo questa qualità Ma questa invece Che minaccia di guadagnare pure il pezzo Ok però Se io Se tu Se lei Se noi Mi stai dedicando un pezzo Franco Un pezzo De go Cazzi Incredibile Ah questa è veramente cattiva però È un'intermedia Perché Ci ha attaccato qualità Perché se no Mi piazza un cavalline 4 Che è molto forte Non so se vale la qualità Quel cavallo che sta là È forte il cavalline 4 Perché poi Non c'è più la serie Delle case chiare Non glielo posso cacciare Sviluppa un bel controgioco Invece così Gli attacco il cavallo Dici oh Levalo E poi mi magna la torre Dovete giocare con l'incremento qua Perché Vince per il tempo Sì infatti Non vinci sulla scacchiera Questa posizione è chiaramente Vinta per il nero Solo che Vince per il tempo Siete delle merde però No Comunque ha giocato bene Il nero Sì Ha giocato una partita Molto interessante Però ovviamente Ha questa cadenza A giocare partite Tatticamente così complessa È molto difficile Perché si deve calcolare Tante cose E non si ha il tempo Di farlo Solitamente è meglio Gli attivare Con schemini Alfiere per h3 Suggeriva Romualdo Interessante Alfiere per h3 Ma adesso Nella posizione finale È perché il fatto È che Il cavallo In d4 È molto forte Nel difendere il mio Alfiere in f3 Quindi Alfiere h3 Forse no Alfiere per h3 Io Sto fermo Torre per c3 Torre per c3 E poi vediamo E Non puoi davvero Giocare tipo Donna per f3 Perché difende il cavallo Quindi devi tipo Spostare la donna In g5 per ima Minacciando il cavallo No Non c'è tempo Qualunque tipo D'attacco del nero Io gioco alfiere g3 Sto tranquillo Sì appunto Cioè si chiudono i giochi Voleva dire Si chiudono i giochi Per il nero Molto probabilmente Il nostro Caro Romualdo Allora io ho accettato La sfida del nostro Mister Brionix Però è una sfida Molto Lampo Molto lampo Che intende Sto gioco a minuto Un minuto 3-0 però Ma stai giocando Una perk Sbagliata In questa posizione Mi sta arrivando Un London In faccia Eh no London con g3 Questo è un London Zucca Torte in qualche modo No questo è un London Ready Cos'è g3 Ma non puoi giocare g3 Cioè L'unico altiere decente Che c'è nel London È quello in d3 Lo vuoi mettere in g2 Ma tu sei un assassino Sono rimasto un attimo Sconvolto da questa posizione Scusate Il ragazzo Gioca bello difensivo Ah chiudeva gli occhi Chiudeva gli occhi Nel senso di Buttamola in cacciara Perché perso 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 al quadrato Ricordiamo Perso al quadrato Ricordiamo Quindi Ciao Sì però F per le 3 Immagino Alfieri H6 Iniziando cose Barbare No Ma il nostro avversario Sta violentando Il London Me lo sta violentando Io non posso rispettare Ma non è un London Cioè tu vedi Alfieri in F4 Subito che grida De London Ma è che D4 Cavallo F3 Alfieri F4 C3 Perdonami Come lo vuoi chiamare British System Da un punto di vista Organolettico Glesgo Galles Sistema Galles Sistema Galles Sistema Galles Perché è un fratello Del London Capito Esatto Sistema Birmingham Questa cosa È un po' Provinciale È un po' Faversham Non so se Possiamo parlare un po' Marco però Dai ragazzi Marco qua il piano qual è? Il piano È il pianoforte Ovviamente Il pianoforte? Ma tu attacchi Debolette Poi qualcosa succede Ma voi commentate Io gioco Il signor Brionix Che è molto Tifato Dalla chat Soprattutto Dall'avversario Più forte Che abbiamo incontrato Finora Che è lì Non lo so Che chiede vendetta Tremenda Viennetta Ha dannato Lo dico subito Interessante Che sta difendendo Vabbè Io faccio La mossa Del socio Affiere H6 Questo Socio Aggressivo Hai ragione Hai ragione In effetti Non so bene A che serve Sta mossa Però l'ho fatto Beh se Combinava meglio Con il cavallino F6 Che con Però Anche così Qua Vabbè Io ho le mie idee Personali Poi Marco Gioca da quello che vuole Io qua per esempio Lancerai subito Una 5 A4 Per disturbare quel cavallo E poi disturbare il centro Poi no Fermo La presa in D4 Il pedone resta in E4 In presa A un certo punto Anche C6 Donna B6 Che attacco B2 Attacco D4 In realtà Al fiere E6 E3 scusate Al fiere E6 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 Diventa tutto bello La vita può essere meravigliosa Intanto abbiamo altre due sfide Io almeno ho altre due sfide Quindi Madonna Qua se mi facevi B5 Eri un mito Marco No Allora C'è stato di per favore Non iniziare a insultare i siti Che utilizziamo noi Perché comunque Sono molto meglio Di quelli che tu pubblicizzi Chiaramente Da un punto di vista di User friendly Da un punto di vista esterico Non è vero Ma ce lo butto Così per dire E E niente Cosa 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 Che sta dicendo Non ho capito Eh dice che questo sito Dice che siamo Ha un pessimo sistema Per le sfide Per seguire la gente Attenzione Come dargli torto Cioè è più bello Fare le grafiche Con chess.com E te dico di sì È più bello Però A noi piace Giochiamo sull'e chess Noi Diciamo la verità Pertanto Usiamo di chess Comunque Ci diceva L'Aernso Di giocare F5 E rifresciare La pagina Di conseguenza Schiacciare F5 Che rifresciamo Aggiorniamo Quindi effettivamente Una volta Giocata F5 Noi possiamo essere Esatto Beh credo che Quando Il nero Riuscirà A togliere Il pedone Da G3 Esatto La posizione Del bianco Crollerà rapidamente No? Ma no Ma chess society Il problema Non è che Il problema Non è il di chess Il problema Siamo noi Che siamo Cioè siamo Siamo noi Siamo solo noi Ho lasciato un pedone In presa Ma no va bene Quello è sacrificato Torre F8 E sai bene Ma il fiere G4 Bravo Bravo Tu sì che sei un giocatore Tu sì che sei un uomo Le qualità Bisogna darle via Tu sì che se no Eh boh Vedo tanta roba Ce l'ho pensata Io vedo pure Torre per due Cavallo per due Che interessante Eh quella sto vedendo Ma il nostro avversario C'è cinque secondi Vogliamo pensarci Minaccia di scacco Minaccia di donna Io devo pensare bene In questa posizione Tu sei troppo Una persona seria Ah bravo Prima Magno E poi ce penso Ecco molto bravo Andrea Dimostra che Chessite è una persona Che cerca di spammare Il sito che gli dà del pane Che non gli dà del pane In realtà però Ma sì Facciamo finta Per cercare Marco Eccetera Vabbè oggi perché Ognuno sta a casa sua Quando faremo una diretta Da casa mia È ovvio che ci passiamo Il mouse Sarà molto più semplice Se avessi fatto una diretta Da solo Sarebbe stato tutto Molto più semplice Però ho voluto Che tutti partecipassero Per fare la Jalappas chess E quindi Intanto c'è Linzo che dice Forza Briox Vendicami Porca miseria Questi stanno Ma cazzo In realtà I commenti Per gli oletti In realtà Per gli oletti Però Io ho l'oreg Che se non mi sbaglio Ha già giocato Contro voi due Beh Esatto Dovakin Che col quale Non abbiamo giocato Ancora se non sbaglio Non mi ricordo Il nick Quindi non ci abbiamo giocato E quindi penso Che accetterò la sua sfida Ok però Facciamo bracciamente Io spero Vai Tu chi fai? Io dico Perone Ok Io faccio Faccio il braccio Chiaramente Hai detto pedone Vero? Dimmi quello giusto Bravo Bravo Mi piace Allora se spinge Non so come si gioca Oh Questo è un grande uomo Io c'ho mille sfide qua Io mi faccio Peon È il peon De lo speore Marijon No come si cambia? Eh certo E si sviluppa No? Cavallo Credo Quindi in questa posizione Bravo Ci sono persone Che giocano Cavallo C6 Io vedrei Peon Peon de lo speone Marijon È bravino Ragazzi Scusate Se mi assento Ma io È partita Una sfida Con Romualdo Intanto Va bene Ma faccelo a vedere Però no scusa Cavallo Eh Cavissimo Altro io fingo Di sapere le lingue Non le so Ah qua io ti direi Alfiere Alfiere Madondra Di scegliere la casa Con una cosa Cambiai pezzi Romualdo Ok Questa è molto London Posso London Firici 5 Porca miseria Perché si vede questo Non lo so che c'è Eh Non lo so Non è Io direi Pedone Per iniziare A inibire Comunque Gli avversari Pedone Per iniziare A inibire Gli avversari Ah Tu Senti solo Pedone E farò questo Potrei aver perso Va bene anche di 6 Come una mossa D'attesa Cioè Non so se va bene Di 6 in realtà Perché ci sono Dei trouble No A un certo punto Ah Io Ti dico re Perché Ti sei stizzito Quando ti ho fatto Gioca H6 Quindi Io Come mi sono stizzito No Dicevo A mio compagno Ma lo so Ma io so scherzare Sì lo so Ma le gag Bisogna non comprenderle Perché è una gag All'interno della gag Capito Esatto In Gapion Che hai detto Re Franco Ma con chi cazzo Ti ho detto Re Ti ho detto Re Gapion Te la potevi risparmiare Bruttissima Non ci penso Noi abbiamo un chiaro piano Qui nella vita Che è vincere la partita Non era perderla Prima hai detto A Marco Che era perderla No ma guarda Questa posizione È troppo più bella Di quella che ho giocato Con Marco Cioè nel senso Abbiamo giocato Benoni qua Bravo Benoni Questo è un mare Questo è un Mario Un po' Io ti dico Peon Senza paura Pedone Peon Peon Romualdo Qua arriva È partita la donna Il vero trucco È sacrificare il Re Per avere uno sviluppo rapido Esatto Esatto Il grande sacrificio di Re Di cui io sono Teorico Famosissimo teorico Alfiere 2 dell'avversario Che cosa giochiamo qua Franco? Giochiamo un alfiere Un alfiere politico Un alfiere un po' democristiano Un alfiere democristiano Lo mettiamo in E6 Molto bravino Qui abbiamo una chiara idea Incredibile Cioè Quale è l'idea? Ah attenzione Questa potrebbe farci del Mario Occhio Intanto cavallo A4 Potrebbe averci Cioè potrebbe darci Dei problemi Sul nostro alfiere Quindi Ad esempio Mosse come donna B6 Mi verrebbe in mente Di scartarle Questo lo dico chiaramente Per i nostri Follow Io non so che cazzo Giocherai in questa posizione Cioè da un punto di vista Ti dico donna Donna? Non dire donna Non dire donna Non dire donna Se non ce l'hai in cantina Legata Non si può dire Scusate Mi dissono Non lo so Io avrei più giocato qualcosa Come cavallo Però Ok È molto vero Avremmo guadagnato del materiale Non avremmo guadagnato Effettivamente del materiale Ma chi lo sa Vabbè Comunque lo dici donna E io ti rispetto Molto bravo Bisogna avere rispetto Per le donne Non sono obbligato Ad essere d'accordo Con te Per rispettarti Quindi donna È unica Che non perde qualcosa C7 Scusami Cosa perdeva? C7 Cavallo per alfiere Per F6 E Me sguarra L'arrocco Ma guarda Che colonna G Che abbiamo aperto Abbiamo praticamente Vinto la partita Dai La colonna G Ma per lui L'abbiamo aperta C'abbiamo noi Il re in G E ho capito Ma noi Dove è rocca lungo Il nostro avversario Ecco Vedi infatti Vediamo Vediamo Ok In questa Allora In questa posizione Io ti direi di giocare Che ti dico di giocare? Beh Vogliamo farla aggressiva Ma giochiamo pedone In questa posizione Pedone? Bisogna aprirsi A nuove A nuove realtà Io ti distraere Marco Pedone Ma l'unica mostra di pedone Che posso giocare In realtà è questa Molto bravo Io in realtà volevo G5 Ma avremmo perso la partita Intanto Romualdo dice Che mi dovete distrarre Ma questa mostra comunque Cioè Ha un senso Ok donna Ok Voglio trovare E adesso Dobbiamo pensare Senso a questa posizione Ormai ti ho detto Donna Noi bisogna dargli i pezzi Diamo tutti i pezzi Ai detto donna Hai detto donna Diamo via Tutto quello che possediamo Ti ringrazio Ti ringrazio Franco Caballero Oh cavallo Immagino che prendeva il pedone in B7 Caballero 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 tantissimo Caballero tantissimo Tantissimo? Guarda Guarda Stadonna praticamente È intrappolata Vabbè Insomma Esce dai 4 Poi è mai di 1 E poi Adios Chiaramente noi Per questo pedone Abbiamo ottenuto Una colonna aperta Dei pezzi molto attivi Abbiamo praticamente Colonna aperta Che verrà chiusa Dopo B3 Tra l'altro Vabbè B3 Indevolisce ancora Le case scure Ma allora Non vedi che L'evoluzione Della posizione Porta sempre Ad un vantaggio Un certo confesso Di che cosa Questo pedone Che abbiamo perso È di legno Perché è compensato Dalla nostra È compensato Che legno è? Torre 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 Legno di Torre 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 Tu fidati Dei nostri piani brutti Raga Io non mi sto a trovare Con la vostra idea Ma non è una nostra idea Cioè non darmi il plurale Maestatis Non è un'idea È qualcosa di brutto Io non c'ho troppo niente Fai attenzione qua Non ti dico il pezzo Perché altrimenti Prendiamo atto Però direi alfiere No oddio Alfiere prendiamo atto Ho appena perso la partita Mi spiace Che devo fare? La mossa corretta Era pedone Però io ti ho detto alfiere Quindi ormai alfiere Dai Grazie Però poi abbiamo perso Eh vabbè Succede di perdere le partite Ogni intanto Ho fatto un mispelling Un mispelling Della parola pedone Avete perso? Ma credo di sì A breve Però adesso Io mi auguro di arrivare Il primo possibile Sotto i 30 secondi Così proverò a rubarla io La partita E questo è il mio piano In realtà Intanto Se sei uomo Sono 20 secondi Perché 20 secondi Va bene Possiamo lasciare i nostri Altra l'altro Qua dobbiamo cambiare Anche le donne Quindi Cambiamo le donne Guadagniamo il pedone C4 Poi quello in B2 Nostro avversario Ha mille punti Ero Diciamoci la verità Si può perdere così Da un avversario Che ha mille punti Ero Alex non ti vergogni L'altro La partita di prima Con Marco L'abbiamo giocata Malissimo Però alla fine L'abbiamo vinto Sì Ma tu Franco Secondo me Tu vuoi giocare male Attenzione Attenzione No Non ti ho detto Alfiere Avevo capito Alfiere Io Leon Sto Leon Guarda Il cavallo Lo chiamiamo Leon Torre Torre E poi arrivano Il cavallo Leon è come mio figlio Ah c'è il figlio Che si chiama Come il figlio di Fedez Perché si chiama Leon Il figlio di Fedez Non lo so Però penso di sì Sai che i ricchi C'hanno tutti sti nomi Tipo Nathan Falco Tipo sti nomi Che usano Nell'NBA No Ah comunque ragazzi Questa posizione Non l'abbiamo mica perso Cioè il nostro avversario C'ha Graziani Abbiamo pareggiato Perché Perché il nostro avversario Molto gentile La graziani La partita qua È appena iniziata La partita è appena iniziata Bravissimo Abbiamo un altro cavallo Che entra Incredibilmente Nella posizione Schiaffa un cavallo in F5 E ti aspettina Beh ti aspettina Io inizio a pensare Di avere Di diversi doppi In questa posizione Dopo cavallo Sento a cavallo D2 Dovakin Ma quindi tu stai giocando Con altre persone All'interno di questa Live Io Io Ha giocato con Franco è stato traviato Io non posso essere Traviato Sei un ragazzo Traviato Da mesi in cui Mi ha guardato Per prendere Legnate No io non so Giocare a scacchi Allora abbiamo detto Abbiamo detto Oddio Non ha giocato Io qua vorrei Sacrificare dei pezzi Ma lo sapevo Io Solo che non possiamo Purtroppo Non possiamo Purtroppo Beh È anche vero Che noi potremmo In un qualche modo Dico Torre Renti una decisione Torre Torre? Mi raccomando Però queste cose Le deve fare anche Marco No no io non c'entro niente Sai gioca tu Torre Sì bravo Una mossa standard Classica Sì no Devo fare così con Franco Perché è pericoloso Devo giocare profilattico Franco perché Allora non essere profilattico Nella vita Che comunque Io ti ripeto Torre Non ci sono minacce È sempre utile comunque Sì mi raccomando Usatelo ragazzi Torre ancora Ti ripeto Torre Perché bisogna essere grevi Nella vita Puoi anche aspettare Fino ad arrivare 20 secondi No no Sì No Sì Era l'unica mossa Di Torre decente Purtroppo C'è stato Bu del pubblico Qua In che senso Bu Bu Mossa che non è piaciuta Ah Purtroppo sì Eh purtroppo è l'unica mossa Ma io sto dicendo pezzi a casa Non so se Eh Sono dato Infatti La difficoltà è capire Come cosa muovere Non tanto cosa muovere Dove metterlo senza perde Stai mettendo Difficoltà Pure l'avversario Che non capisce Perde per tempo Ok e qua io direi R Perché non c'è Ma come se è ambiguo Dice Franco Cazzarolo Ma come se è Torre Torre Incredibilmente Io direi Bravo Ci stanno Nacciamo pedoni Sì vabbè Ma quello non è un problema Quello ci sarà sempre Quando mangi Lo scacco Li manià No Quello lo mangiamo di cavallo Che è peggio Perché minaccia Capito L'idea è che Quando abbiamo un cavallo In E3 E meniamo su G2 In maniera Il pensiero logico lineare Dice che quando puoi mangiare Qualcosa in presa Anche a scacco Non devi pensare Caballero Grande Questa partita La perdiamo Anche se l'avversario Dice Vabbè Qua purtroppo Direi cavallo ancora No Non si mangia G2 Vabbè G2 Che ci dobbiamo fare con G2 E scacco Ma mangio qua No Cavallo Ok però devo dire Le mosse Tu devi Devi stare Tu devi Di solamente la mossa Poi sta Alex Muovere Ricordiamocelo Le regole sono queste Eh ma io non l'ho detta La mossa Capito Torre Con la torre Noi si corre Diceva Frizz È il matto Adesso però ti dico cavallo No non è vero Torre Torre Sì Aveva premosso cavallo Però Aveva detto cavallo Infatti stavo per muovere cavallo Ok ok Allora Giovanni con 5 sfide Voi avete qualcosa Oh abbiamo Cesso Sidi Dobbiamo accettare la sfida di Romualdo Però Sì sì Vai vai Di nuovo abbracciamento Mi chiedo scusa a tutti quanti Ma Romualdo va accettare Perché tutte le volte che abbiamo giocato noi con lui in live Adesso dobbiamo restituire Cesso Sidi D4 F6 ovviamente Oddio Credibile Questo è il È un altro sistemino Questo si chiama Giobbava Prae Ragazzi Ma l'ha giocato prima Non le conosco Non le conosco Io non capisco però Perché Vista l'assenza di D5 Lui non abbia giocato il 4 Io la partita di prima con Romualdo Ho fatto subito C5 Non D5 Per creare subito Casino Ma io direi Come il fiere G7 Aspetta che io ho sbagliato C'era un 4 da fare Da parte di Romualdo Che è stata missata tantissimo Da un punto di vista organolettico Cioè Io forse ho sbagliato qualcosa E qua la devi buttare in cacciare la socio Subito Ma che cazzo Ma no ma non è vero Aspetta 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 che forse c'ha ragione No incredibile Ma ci siamo presi al fiere B5 davvero No cavallo B5 Sì cavallo B5 Ancora si gioca Allora io Diciamo che inizio a preferire il bianco In questa posizione Non solo perché gioco queste linee io Nella mia vita Però Diciamo che lui il bianco Prendiamo un cavallo in E4 che ci piace Attacca la donna Fa cose Sì ho capito Ma tu stai dando un sacco di materiale Per questo cavallo in E4 Perché? Ma no Ma non è vero Tutta scena Tutta scena Franco Questa mossa mi fa Cioè Mi fa Perché non ha giocato qualcosa di diverso Romualdo Perché non c'era niente 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 Io facevo donna per C7 E poi mi mangiavo la sua donna Quindi avremmo pareggiato il materiale No? Eh ma tu non avresti perso dei pedoni Da un punto di vista Organoletti Comunque Un pedone Oh pedone Ma un pedone Cioè buttalo via Il pedone è un pedone Questa Poi guarda la posizione del bianco È comunque migliore È comunque migliore Però non possiede materiale di più Ecco Qui si A rocca Possiamo giocare questa qua Sì Questa qua Ah questi sono delle Dei Dei Delle risposte Che arrivano sulla chat È questa qua Oh Mamma mia Che posizione Questa è la nostra cattiva In effetti Arriva di arroganza Ma No Paroloni Guarda Guarda Qua può cambiare tutto Sì Questa è veramente cattiveria Però probabilmente Riusciamo a fare qualcosina Dai Possiamo truccheggiare l'avversario C'è poi una torre netta in meno Attenzione Però lui c'è un re Un po' sospetto Ma che torre netta in meno Questa è Cioè Questa torre è chiaramente di legno C'è un torre No Questa no Questa nemmeno Se qua muovi l'alfiere Sei una persona Veramente triste Credo che bisogna attivare I nostri pezzi In maniera Molta più propositiva Eh Il cazzo E Mister come? Ma Donna 4 Donna 4 Donna 4 Donna 4 Non minaccia Assolutamente nulla Donna B4 Minaccia Mossa Mossa Della spostamento Donna B4 Certo C3 E poi E noi ci mangiamo B2 No O comunque Entriamo in A3 Entriamo Da qualche parte Vogliamo dare Veramente retta a Franco? Non fatelo Però Donna 4 A me piaceva Io l'avrei giocata Tante volte Ma anche B6 Va bene In questa posizione Dai Ma si Che cazzo C'è frega Dai Va bene Va bene Va bene Va bene Diciamo che La mia ultima affermazione Anche B6 Va bene In questa posizione Vi fa capire La qualità Di comunque Di questa mossa Anche se adesso B6 Comunque Qualche Qualche idea Dietro ce l'ha Dovremmo C'è qualcuno che ci scrive Greve Greve Molto bravo Ma è È ufficiale Scacco Arre Scacco e brigatorio Penso no? Altrimenti non ha senza Per fatto tornare Ah io credo proprio di sì Seguiamo il piano di Franco Che prendere un pedone Ma in mio non era un piano Cioè ragazzi Era un Una mossa Un insieme di mosse Queste piccole Comunque Una cozzaglia di idee Immagino Che Dovrà giocarci tre Immagino Ah tra l'altro Capiamo che Romualdo Ha una posizione vincente Semplicemente Perché lui ha molto più elo di te Lui è 2099 Tu sei 2098 C'è una chiara superiorità Di rating In questi In queste tempistiche Però si pensa In questa posizione Attenzione Eh beh perché forse Stava valutando Se va bene l'RF1 Se deve giocare C3 Stava Beh qua deve calcolare lui Perché lui che è in vantaggio La mossa giusta Lì era cavallo di due Comunque Eh sì La donna deve mangiare lì No Questa è È sbagliata La parte sua Dai È un po' simile Che sia giusta Sta mossa Questa mi piace Da parte tua Sì Abbiamo delle minacce Con l'Alfiere F6 Minacce Mossa è a parlare Veramente una lingua Che non conosco Sono parole grosse Minacce Ma noi Noi abbiamo Grandi di questa posizione Guarda Questa posizione Esplode Non è che c'ha La tua minaccia Non si sente Sono più le miccette Che Diciamo Più che bombe Sono le miccette Quelle che buttavi per terra Da piccolo Quelle fatte a pallina Tipo Esatto Esatto Che buttavi in farmacia Che sono gli scherzi Mettemi sulla sedia Uno ci sedeva Sopra Sopra il quaderno Tipo dai 20 secondi Impazzito Il nostro avversario Beh dai Donna sposta È in difficoltà Pressione psicologica Mangiamo tutto noi Perché siamo fatti così No? Sì ma Siamo Dai dai Mangiamo anche il pedone A questo punto Mangiamo il pedone Non so se c'è una cosa sana Però Se c'è già 17 secondi Eh sanno tutto Quando c'è 17 secondi O no Questo? E poi questa Ma dopo c'è il cavallo Ah tu dici doppio Ma non è doppio davvero Dico doppio ma non è così doppio però O mi sbaglio Perché c'è Beh mangia Inaspettavo Eventualmente Mangia ancora Bravissimo E poi Adesso dobbiamo dare Modo Questa intermedia Vediamo il cavallo Questa posizione è praticamente Già vinta dai Non diciamo Vabbè c3 in presa C3 in presa Ci lo pigliamo Stiamo qua FF6 Adesso questa Ah questa Molto più bella Devo dartene adito Vai con il perpetuo Vai con il perpetuo Ma noi giocheremo F5 a un certo punto No non pattare No no come no È patto Eh vabbè dai Io non vi lavoro manco Proprio rubato Non è meritata Cioè voglio dire Ho giocato una chiavica Dovevo morire Io ci avevo La tua tentazione Ma questa Però è stata una grande partita Romualdo No è che non conoscevo Quel tatticismo Anzi dirgli la verità Ho giocato quel cavallo c5 Molto stupidamente Perché Ho proprio toppato totalmente Dovevo giocare Prima al Rocco E poi eccetera eccetera Però sì Sono caduto nel tranello Ho perso una torre Proprio Tutto un truccheggiare Forse ci ha pensato troppo Giocava più semplice Romualdo avrebbe vinto Sicuramente Speri bene Romualdo Speri molto bene Ci abbiamo insultato di brutto Romualdo Abbiamo detto anche cose brutte Della tua famiglia Abbiamo detto che voti Salvini Tra l'altro Che sei andato a vederlo oggi No non ti abbiamo insultato Dire la verità L'abbiamo solo fatto Dei complimenti Anzi mi sono auto insultato Perché T'ho rubato una partita Che avevi palesemente vinto No? Classico furto con scasso Classico furto con scasso Vabbè io ci ho fatto Una carriera insomma Con queste cosarelle Quindi Non ne ho vinta una onesta Voglio andare a vedere un po' Marco Perché io c'ho altre sfide qua aperte Io pure c'ho un po' di sfide Allora Marco vai tu? Vado Mattia Con il punto interrogativo Quindi Il punto interrogativo è fondamentale Può essere tutto De più Vediamo se Risponde E4 E il ragazzo ci pensa Oh Adesso arriva F5 Il gambetto scorretto Sta giocando contro Contro me stesso Sto giocando Secondo me ci stanno trollando Oggi comunque Dobbiamo ritagliare I pezzi di questa diretta E metterli come un video E dire I followers Di Gambito Li trollano Ci hanno giocato Praticamente tutti i gambetti Che abbiamo messo nel canale No ma io direi Che distruggiamo C'è society Come clickbait E poi non lo distruggiamo Perché abbiamo lasciato Che la partita finisse pari Dove ci possa stare Non c'ho più la mano sulle blitz Ma vergognati Che giochi solo 3-2 Vergognati Ah no no Franco la domanda a questo punto sarebbe E allora la mano dove ce l'hai? E appunto Ce l'hai sul culo di qualcuno Molto probabilmente O altrove ancora Però non vogliamo essere troppo A vero che tanto Il nostro canale Non è monetizzato Eh sì Ma c'è un chiaro Quindi non ci interessa Ma che ci fanno? In tutto questo Marco sta cercando di giocare Cioè nel senso Ma va Sono abitato a giocare Col trash token Sì infatti Marco Puoi dare sfoggio Puoi dare sfoggio Nei video ci tratteniamo Ma qua puoi dare sfoggio Non ce ne frega niente Tanto male che face Eh ma Si parla troppo insieme Non si capisce più niente A un certo punto Cioè non c'è un momento Che uno si ferma In casino Eh beh è normale Cioè spero che vogliamo Una roba del genere Certo che vogliamo Una roba del genere Attenzione Beh questo Questo Marco Lo vedo un po' chiuso Un po' chiuso in se stesso Con un paio di problemi Non è così Però diciamo che il punto Interrogativo avversario Può mettere in soggezione Molti L'idea è essere chiusi Per aprire come una cozza Poi Il concetto è quello Ma l'idea è pure C'è society che ci dice Che legalmente Le parolacce sono consentite Per la monetizzazione Ma la monetizzazione Non è attiva Per chiari altri motivi Cioè Sì Che ci abbiamo voglia Di prendere 20 centesimi Esatto Ma soprattutto Di dominare i nostri contenuti Per guadagnarci Una cifra stupida Quindi Da dividere in tre Chiaramente Da dividere in tre Chiaramente Esatto Questo ragazzo Gli piace giocare per la patta Vabbè Ma non è vero Questo ragazzo Eh Ma è caduto È caduto È caduto È caduto Eh Il socio è caduto Perché ha preso una testata La testata gli ha data Ah È caduto Ok Un po' capitata Cade Regà Siamo tornati Siamo tornati Che mi so Portante è rialzarsi Ma dopo H3 C'aveva il filo per H3 Il tuo avversario Non l'ha visto Vero L'ho messo alla prova Per vedere Se era il punto interrogativo Era finto O vero Capito Quindi hai capito Che è vero Potrei No Che sì Non lo so Perché ogni tanto Lui mi dice Come faccio a sfidare Salvuccio Grande Salvuccio Uno dei nostri Grandi Proprio sostenitori Allora Puoi Per sfidare Alex Basta cercare Sull'Icess Cavallo goloso Oppure Per Marco Bibusco Scriviamo Marco Non so perché Ma È proprio Mesa de patta Sta partita È un po' Una francese Variante di cambio È una patta De pantaloni Vabbè dai Se può Si può ancora Gioca No Come si scrive Cavallo goloso Scusami Cavallo Underscore Goloso Cavallo goloso Con le maiuscone Cavallo goloso No è uguale Tanto lo trovo Ugualmente E qua Abbiamo la prima Il primo elemento Che sbilancia Attenzione Slurp Attenzione Questa risposta Con un cavallo in presa No attenzione Ah no perché io sto guardando Dalla live Quindi sto indietro Attenzione La live ha qualche problema Sì abbiamo risolto Immagino No ancora Cioè io continuo Ad avere un paio Di problemi Di caricamento Eh va bene Ragazzi Oggi l'abbiamo già detto Oggi era bullo cazzeggio Era una prova Non l'abbiamo annunciata Sì Stiamo provando Esatto Ci siamo lanciati Come veniva Anzi Fino all'ultimo secondo Siamo stati in dubbio Se metterci live o meno No poi abbiamo detto Ma sai che c'è Mastica Ragazzi E siamo andati Però era una pura prova Oggi per divertirci un po' Di domenica pomeriggio Che sappiamo Che molti si annoiano Domenica pomeriggio Non so voi Ma io sì Non so mai che cosa fare Né di uscire Né di stare a casa E quindi Ho detto Sai che facciamo Stiamo a casa Accatenato Ho mandato Sì pure a me Stava proprio avvelenato Pure con me Mi muto un secondo GG MnT Ma sarà GG Minturno Perché? Non è che sei il mio compaesano Qua Andiamo a scoprire Che sei di Minturno Oh basta che ti abita Ti abita di fronte casa Non sarà Minturno Sarà tipo Mintniti Sarà il cognome Penso O Montale Montale addirittura MnT Sarà tipo Sai Codice fiscale No? Va bene Qua Tutto bello Qua La cosa semplice No? La cosa semplice Ci appassiona Semplice Un po' banana Però Sì Ma Vabbè Si aprirà una finestrella Se no Sto reno respira Che canal Che canal Lo sapevi che facevi questa Come te conosco Socio Purtroppo La vita è dura Eccolo La Blan Stata una buona partita Mattia Ti sei difeso Abbastanza bene Poi Poi Perto Purtroppo Io mi mangio tutto Ha generato Quella posizione Simmetrica Che poi Va là Va là Ha giocato Ha giocato bene È stato solito Bravo Ottima partita Sono io Luigi Minutilli MNT Doveva essere qualcosa del genere Minutilli Minutilli Ah lui ci seguo moltissimo Vado io? Vai vai Sì con lui ci voglio giocare Perché ci seguo sempre Su Facebook Su Insta Su tutti i social Quindi merita Vai Vai vediamo questa partita Allora è 4 Voglio provare una cosa diversa Oggi Io gioco sempre sta siciliana Voglio fare qualcosa di differente Che mi consigliate? Io No Ah i ragazzi Ragazzi Dite la prima mossa Di Alex Infatti sì Dite voi in chat Dai Cambio apertura Vediamo un po' Se qualcuno ci dice una mossa Improvvisiamo Vabbè mi fate sapere voi Se comunicano qualcosa Intanto io Ma non è che sta nulla La partita Se non rispondo subito Può essere D5 Salve ci ha detto D5 Vai Le tocca Vabbè ovvio Ognuno c'ha il suo stile Ognuno c'ha il suo stile Allora facciamo una cosa Subito 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 Cambierello dei donne Il semplificatore Questa è partita La sfida al cloroformio qua Attenzione ma io te animo l'impossibile Eh no ma devi farlo Io te animo l'impossibile Dove c'è sta pace Io te porto la rivolta Dopo D5 è partita A casetta 6 B5 Scandina va con donne in D6 H3 5 Cavallo C3 Ecco qua il primo elemento Che sbilancia la posizione Fammi girare questa prima che mi scordo Su Ah bene La conosci pure te prima che mi scordo Eh E' importante no? Ma Franco in tutto questo Dove è andato? Ma Franco dove è andato in tutto questo? Franco penso si sia preso una pausa Un attimo un break No è andato a fumare Sto trucando proprio Io sto a fumare in diretta Perché onestamente Non ho paura di essere un pessimo esempio Franco Vieni a fumare qui con noi Tanto A parte che Franco Non sta vedendo nessuno Tra l'altro Non è l'immagine della webcam Quindi Non vedo per quale ragione Deve andarsi ad ammacchiare Da qualche parte A fumare Tanto commentiamo la posizione Il vantaggio del mio avversario Ovviamente E' la coppia degli alfieri Che però in questa posizione Ha difficoltà A trovare un po' casa No? Perché effettivamente La posizione non è Di carattere proprio aperto Immagino che in un futuro Con F4 Potrebbe aprirsi la posizione E E gli alfieri potrebbero Prendere forza Però al momento Mi sentite ora? Adesso ti sentiamo Forte e chiaro Molto bene No perché ogni volta che mi muto Poi devo uscire E rientrare in chiamata Perché altrimenti Non mi vede nessuno Comunque sì Ho visto che le persone Iniziavano a Tirare delle mosse A parte Scandinava con Donna di 6 Che è molto bene Per Scandinava E molto male Per Donna di 6 Soprattutto quando Sulla posizione C'è E4 E Questo canale È poco Family Friendly Molto vero Molto vero Questo canale È poco Family Friendly Hai ragione Noi ci vantiamo Di questa cosa qua Onestamente Eh sì E a noi va bene Tu sei un grande Mattia Quindi tu Ammetti che inizialmente Hai giocato per pattare Con me Maledetto E ci hai riuscito A quanto pare Perché in effetti C'eri quasi riuscito Sì 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 Ha giocato bene Qua Non saprei come Sì lo so Così semplicemente Tutto sommato Il bianco C'ha un po' De debolezze Quindi alla fine Io preferisco il nero Vogliamo vederti Franco tutti ti vogliono vedere Ma io da quanto è Che te lo sto dicendo Franco Tira fuori il muto Ragazzi Io ti sto dicendo Che per privacy Io non mi farò mai Vedere nella vita No un giorno Mi farò vedere Ma non è questo il giorno Avete presente il meme Del signore degli anelli Non è questo il giorno Tu e i meme Siete una cosa assurda Comunque No no La mossa più sbagliata Ecco La mossa più sbagliata Che poteva Era il cambio Dell'altiere delle case scure Infatti Marco Dicci perché A tutti i nostri amici Dalla chat Perché adesso Alex potrebbe giocare Cavallo E6 E poi cavallo D4 F4 Va a controllare Quelle due case deboli Del bianco Esatto Il bianco Ha le case F4 E D4 deboli Quindi sia il cavallo In H5 F4 Che il cavallo da E6 Come ha detto Marco In D4 Oltremmo a una posizione dominante Poi i cavalli su casa scura Controlleranno case chiare Pertanto questo alfiere qua Praticamente in futuro Vedrete che sarà Praticamente sotterrato No Praticamente questa è X2 Potete tranquillamente giocare 50 euro sull'X2 Adesso A quanto sta quotata Qua l'X2 Marco 1.05 Allora non conviene Nemmeno puntare E in effetti Il nostro avversario Subito si sbilanciano Ragazzi Ragazzi ho avuto Un problema di connessione Mi sentite in questo momento? Sì Ti sentiamo Ok molto bene Molto bene Ma la live è ancora up F4 Tanto Brugiova Dice Io a Franco Non lo voglio vedere Va bene così Molto bravo Brugiova Non me vede in faccia Che ti giuro Te vanno tutti Ma non è vero Te vanno tutti Questo è dei nostri proprio Brugiova Gigi ci gioca a F4 Che in effetti Elimina quei due buchi No? Presenti in F4 E in D4 A prezzo di un pedone Però ricordiamo Se ne è creato un altro In realtà Nella posizione Che è la casa E5 Quindi il mio cavallo Adesso invece che fare Questa traiettoria qua H5 F4 Semplicemente se ne andrà In D7 E poi in E5 No? Quella sarà l'idea E penso che sarà Poi che farò Sì Eh qui veramente Ce n'hai il rimbarazzo Della scelta Per attaccare il pedoncino F3 Eccetera eccetera Non ha fretta Attenzione di giocare B5 Perché comunque L'alfiere qua è innocuo E quindi non ho bisogno Di migliorarglielo Con questa qua E quindi Per ora va tutto Io Mi piace molto G5 F6 Cavallo E5 Come sistema Sì esatto Solido Impedisce tutte le spinte Di rottura Se spinge in H4 L'avversario Noi siamo fermi Esatto E poi eventualmente Però Si gioca Adesso dovrò trovare Una buona casa Per il mio re Fondamentalmente Immagino sarà In futuro Sostituire il cavallo Che andrei nei 5 Con il re Con re 7 Re F6 Sì Ma anche re 7 Secondo me Sta bene Una problema Le torri Possano comunicare E agire sulla colonna D Anche se l'avversario In effetti Sta ancora ritardando Attenzione Concentrazione L'ultimo e velocità E qua praticamente Acceleriamo il piano Che Marco Aveva preannunciato G5 Su H4 Giocheremo F6 Sulla presa Riprenderemo I pedoni di F Stai minacciando Anche cavallo E5 F3 in presa Cavallo E5 E poi Dopo che prendo I 5 Franco Oh Dice Oh Franco Dice Non mi stai sentito Ah ok No non stavo parlando Verrà Stavo sentendo Daniele Daniele Veneziano Mi dissocio Da cosa ti dissoci Che forse mi sono perso Un passaggio Anch'io Allora Intanto La Scandinavia Con donna D6 È una delle più giocate In realtà Tra le scandinave Che esistono Sì 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 Con donna D5 A me piace un sacco Nella vita Ma io non è che non l'ho giocata Perché Non la reputo buona Perché non si è presentata L'occasione L'avversario mi ha giocato D3 Invece di prendere in D5 Pertanto Non Non è stato Sì sì Ma chiaramente Ma A me quando Mi giocano la scandinavia Ma io sono felice In generale Ma non so triste Nemmeno io Onestamente Perché non è un'apertura Che mi crea Che rattacavi Però è un'apertura Che comunque Bisogna Conoscere Ma no bisogna Conoscere Non puoi andare là A farlo smargiasso Perde per il tempo Caro Gigi Grazie per la partita E vabbè È una partita lenta Posizionale Sono stato un po' infame Io Salvuccio00 Salvuccio00 Mi dice che Si ricorda di me Da quando Coltivavo i peperoncini Per l'anduia È molto vero Ho lasciato un po' Quel mio passato Alle spalle No Quella volta In cui Coltivatore di anduia No È in pratica Sono stato anche a uno mattina Alle volte No Facevo il giornalista Poi ho deciso di buttarmi Sugli scacchi Perché C'è Hai fatto bene Con la scandinia Spingi E diventa una Carrocan di spinta Però più bella Capito Cioè non so se hai mai giocato La Carrocan di spinta La Carrocan di spinta Di solito si gioca C5 Per entrare una francese Con l'alfiere fuori Con un tempo in meno Visto che non t'ho ancora Fatto vedere C6 Posso giocare la Carrocan di spinta Con un tempo in più O quantomeno Una francese Con l'alfiere fuori Senza dover perdere un tempo Madonna Franco Quante cazzo di cose Che sai però Oh no Hai studiato più di me Gli scacchi Ma se Marco noi non abbiamo fatto niente Io e te Marco Abbiamo solo giocato noi Eh ma perché io ho visto Volevo passare a Carrocan No? Quando Nella mia vita bruttissima Poi ho detto No ma il pan-off Mi rompe troppo le scatole E poi è troppo facile Che una persona mi giochi Aspettate Volevo leggere il messaggio De Luigi Con cui ho appena finito La partita Ci scrive Mannaggia Sono scarso Ho da studiare e da migliorare Fortissimo Alex Grazie a te Ma grazie a te per la partita E grazie per seguirci sempre Commentare eccetera eccetera Ci fa un sacco piacere Franco ma Una partita non te la fai Franco Penso sia caduto nuovamente Intanto io Ah eh Pensavo di essere caduto Ho da diverso tempo in attesa Mr. Brionix E voglio accettare la sua sfida Vai 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 Una 3 più 2 standard C'ho il bianco Marco gioca e 4 solamente per te Grazie Grazie Vediamo cosa ci gioca il nostro amico Mr. Brionix E 5 Allora fai F4 Eh vabbè Io non so tipo da queste cose qua Onestamente però per Marco Andiamo di gambito Andiamo di gambito Cavallo C6 Cavallo F3 Continuerò come immagino si faccia Non conosco la teoria sul gambetto di re Onestamente E Marco non mi consigliare Perché voglio poter sbagliare E che il mio avversario mi punisca Nel caso Ragazzi Questo è un classico gambetto di re Giocato molto bene Da parte di tutte e due Buh Sono caduto? Non sento più No no tu ci stai Franco non c'è più No perché a un certo punto Sento momenti di vuoto Io anche sento Momenti di vuoto Nella mia vita Però non c'entra La connessione internet Quando è vuoto Non ci potremo fare niente Allora io penso Che qua in questa Situation Devo cercare di Tutelare il mio Alfieruccio E quindi giocherò Una A3 Comoda Alcune volte Potrebbe pure Fare piani QF5 Più avanti Insomma Sì però adesso È il momento Temo cavallo D4 E onestamente Vorrei Vorrei Accelerare questo cambio Se effettivamente Il mio avversario Vuole farlo Perché poi sul cavallo D4 Fedon F2 Se è bello solido Esatto E poi vuoi fare F5 E poi vuoi fare anche F5 G4 Esatto Il cambiare L'alfiere Dalle case chiare Lo ritengo Un errore Molto grave Per il mio avversario La sua struttura Ricorda quella Dell'est indiana Pertanto Quell'alfiere Sarà sicuramente Importante Come nell'est indiana E ora Mi stanno entusiasmando Le idee Con Con Cavallo Visto che lui Non può reagire Con D5 Per la verità Vorrei giocare Cavallo E2 E C3 O G4 Subito Anche È interessante Credo Io sto leggendo Un po' Dei commenti Sul gruppo Si è scatenata Una questione Sulla Scandinava E la Carocanna Allucinante Scandinava E Carocanna Beh sono due argomenti Che a me Grazie a Dio Non interessano Perché io Sono sicilianista Convinto E difficilmente In futuro Mi Potrò convertire Se qualcuno Mi vuole giocare La Scandinava O la Carocanna Benvenga Io sono pronto Lo comunico Con E4 E uno schiaccia Aperture inferiori Quindi Accetto tutte le sfide No vabbè Se può pure perde Perché Se può perde È normale Però Non c'hai la fama Ad essere uno che perdone E qui Molto interessante Potrei fare questa scelta O potrei farne un'altra Sì questa 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 mi piace molto A livello teorico Non so qui A che cosa porta il tutto Però diciamo che La faccola guadagna un pezzo E basta immagino Ma contenterò Deve morire Come si dice Ma io morì a pancia piena Che a pancia vuota Esatto Non so se me si ritorcerà contro Questo avanzare i pedoni In maniera così sconsiderata Contro l'avversario Però intanto Mi prendo il pezzo Se è un bluff Pokeristico Lo vado a vedere con piacere Poi se perdo Avrò imparato una cosa nuova Intanto Linzo ci dice Mistero della fede Come ha fatto Questa posizione A venire fuori Da un gambetto Direi E guarda Puoi guardare Le prime mosse Ti rendi conto Che può uscire fuori Sì Diciamo Quando il nero Nel bianco Semplificano Quella tensione Al centro E si permettono Eventuali espansioni Succede un po' questo Il fatto è che Il nero avrebbe dovuto Cercare una reazione A qualche momento Con D5 Perché se appoggi L'avanzata del bianco Sul lato di re A un certo punto Resti senza spazio Quindi Credo che il tema Sta un po' lì Adesso sono indeciso Raga io ho evidenti Problemi di connessione Quindi mi sa che Ma proprio evidenti Perché a un certo punto Parti E Sparisci Eh no Ma mi proprio Crash la connessione E muoio dentro Quindi a questo punto È meglio che io Che io vi abbandoni In questa cosa Cioè sto senza Vabbè Oh Franco Vai e torni Non si offende nessuno Insomma Siamo tre A voi a parlare Se facciamo una parola A testa Non riesce il discorso Tra l'altro Stavo facendo una cosa Una spiegazione Bellissima del perché Io volessi Iniziare a passare Alla Carocan Tra l'altro C'è Andrea In chat Che dice Chi ce l'ha suggerita La spinta Con la Carocan Di spinta Che è incredibile È ancora più incredibile Quando la giochi Con un tempo in più È incredibile Attenzione Ma già troppo Si strozza Dice Salvuccio Sì Perciò ti dicevo Ti stavano citando E qui Dobbiamo capire Cosa fare A questo punto Credo Perché 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 non vedo minacce In conventi Io giocherò questa mossa In maniera molto distratta Mamma mia socio Sei troppo aggressivo Però Beh Facciamo del nostro meglio Con chiare idee Di andare a dare scacco Matto In G7 E io penso che Prenderà Il mio avversario In F6 Riprenderò rapidamente Con il pedone DG Per dare scacco E poi Piazzerò Improvvisamente Una Donna Non si può Ma donna D2 Se può fare È legale C'è donna G4 Che un po' Mi infastidisce Perché lui Mette la donna In H4 Poi no Mi da scacco Re H1 Donna H4 Mi da fastidio Quindi potrei G5 Ma potrei Prima prendermi La quarta Ah tu dici subito così Ah io pensavo Nel G5 Nel G5 Nel G4 Questa è anche Una buona mossa L'idea è anche Donna E1 Donna H4 Esatto Dore H4 Insomma ci stanno Tante idee sotto qua Sì Semplicemente impediamo L'unica cosa Che ci dà fastidio Beh lui ignora Proprio Lui ci ignora E noi Non ci offendiamo Noi non ci offendiamo Perché noi Siamo fatti così Lasciamo libertà di espressione A tutti quanti E adesso Però Iniziano Iniziano le idee 13 secondi Secondo me Ignorare Poteva essere Una buona idea Comunque si H5 Questo è un minacciatore F5 Ah vedi Però dai Infatti si era andato in H4 Con la donna Così riuscire No minacciavo donna per G6 Subito Perché era inchiodato Il piedone di F7 Eh ho capito Però poter andare In G5 subito Era più bello Entravamo subito in H6 Adesso facciamo La donna Non può più entrare In G4 Sì sì Sa Il piano tranquillo Si chiama questo Eh però Adesso si chiude Ancora di più in se stesso Eh ma donna G5 E donna H6 E poi passa Passa all'archivio È archivio Sì 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 Torre E6 Come la vedi? Ah tu dice Eccola Torre F5 No Torre F5 Torre G4 Torre F5 Ah sì sì Torre F5 è meglio Torre F5 Torre F5 Eh beh Donna H6 Ok 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 Stazione violenta Certo 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 C'è stato un paio di problemi Col matto Molti problemi A dire verità Sì Però Però ha perso per il tempo Cioè si è difeso Fino alla morte E ti ha lasciato con 30 secondi Quindi è stato comunque No no è stata una È stata una bella partita Ma io credo sempre Che in realtà Il vero errore Sia uno solo No è stata Oh scusate Ho dato una botta al microfono Spero di non aver stordito nessuno Eh L'errore è solo uno Che non abbia reagito Con D5 No probabilmente Non sapendo che si deve fare Quella cosa lì E poi è normale Che tutto ciò che viene dopo È come quando stai facendo Un'espressione di matematica No sbagli un segno È normale che tutto ciò Che viene dopo è sbagliato Sì Però Considerando che Sei trovato in difficoltà Posizionalmente Ha giocato bene dopo Perché comunque Ha fatto quello che doveva fare Ha cercato il suo controgioco Eccetera eccetera Quindi ben fatto No no Ha giocato veramente bene Intanto Linzo dice Suggerimento per la prossima live Potreste organizzare Un torneo arena Con gli iscritti magari Che è vero Che noi avevamo già pensato di fare Che è una cosa Che vi vogliamo confessare Era in programma Quindi A presto arriverà Questa live Diciamo che era una prova Anche per questo Perché non vogliamo giocare Noi ovviamente Giocherete voi E non voglio darvi troppe Anticipazioni Perché non mi voglio Adivinare la sorpresa Ma ci saranno anche Dei premi E quindi State aggiornati Insomma Sui nostri social Perché ci saranno Delle novità a breve Venite a giocare Faremo un torneo Ci saranno Tante novità E qualche premio E quindi insomma Restate aggiornati Che sfidiamo? Marco tu c'è sfide? Come no? A me mi ha risfidato Romualdo Allora io direi Romualdo Però abbraccio mente Stavolta Io aspetta Io aspetta Di connessione Ok C'ho il bianco Io sono partito a giocare Romualdo Lo dico Ok ok Va bene Io aspetto la Romualdo C'è Ok Ero io che non c'ero Distratto Cavallo in F6 Cavallo F3 Vuoi giocare una cosa Molto tranquilla Romualdo Che si inventa F4 No Cos'è C4 F4 London Scusami Ma perché devi giocare Questo figlio Del mio dolore Cioè guarda Ma è il mio avversario Che l'ha proposto Io semplicemente Accetto di entrarci Eh ma scusami Quanto è più bello Con l'alfiere F4 Ma ti prometto Che gioco La Benoni Con l'alfiere in F4 Però solamente Se lui apre il fianchetto Hai visto Dato retto Ragazzi Non l'indicate Ma non è meglio In G5 A questo punto L'alfiere Alex ma dopo Posso sfidarti Ma certo Mettiti in coda Sfidami E alla prossima Sarai tu In live E tre Molto bravo Vuoi sfidare Alex Sfidateci tutti Ragazzi Non vi preoccupate H3 Una mossa standard Per dare rifugio All'alfiere Delle case scure Torre 8 Anche una mossa standard L'alfiere in D3 Per evitare Alfiere F5 Oide similari E adesso Adesso mi aspetto Una mossa come A6 Probabilmente Che prepara L'espansione Sul lato di donna Subito B5 È molto interessante A dire la verità Beh io prendo Che non è un pedone Impresa Non è un pedone Sì però Solitamente Si danno Questi pedoni In queste linee Ti dico la verità Non è un pedone Impresa È una torre Impresa questa È impossibile O è una torre Impresa È una qualità È una qualità Impresa Però aspetta Un secondo Perché c'è Un cavallo Per D5 Forse in qualche linea Però non fa niente Perché io giocherò Re F1 Re G1 Re H2 E mi rifugio Quindi intanto La torre me la mangio Poi se c'è Un'idea particolare Che non mi sono No ma quando gioca Cavallo per D5 Noi la casa D5 La controlliamo Dove l'hai vista Cavallo D5 È un grande romuore È inchiodato Eh ok Ma lo prendiamo di donna E lui prende Alfiere G7 Per C3 Per donna per Donna per E prende in A1 Ah Ok Che è una cosa Che potrebbe non piacerci Un sacco di pezzi Ha un sacco di pezzi Sì Però lui c'ha anche Alfiere A6 A un certo punto Che minaccia Che fa cose Io adesso arrocco Semplicemente Perché Non voglio Mi è caduto L'accento Attenzione Attenzione Mi distraggo Mi distraggo Ma ritorno È un brutto segno L'accento Sì Sì È come lasciare Il pezzo in presa No Eh sì E adesso Hai troppo di accedi A di là del sacrificio Di qualità Non mi convince molto Il sacrificio Dell'avversario Perché sta molto In ritardo di sviluppo Non gli dà nemmeno Un compenso Ma non l'ha vista Non l'ha vista Tanto Romualdo Mosso Io non me ne so Corto Donna 4 Cortissima Donna 4 Mosso della vita Non si può non giocare Donna 4 In questa posizione Donna 4 Con l'idea di Prendere Alfiere Prendere Eh beh sì Però immagino Che cambierà tutto Eh cambia la donna Riprendo di cavallo Mi gioca alfiere D7 Attacca il cavallo Dovrò giocare Cavallo c3 Se prende dalfiere Riprendo Vabbè i cabbio Pensando benissimo No quindi Eh beh è per quello Che ti dico Gioca triste Ma sì Dai Ti voglio Ti ho letto Franco Non si può giocare Tristi Ma c'è anche una minaccia Con donna c3 Volendo Ragazzi posso dire una cosa Ve lo dico in diretta Di tranquillamente Non mi aspettavo Tutte queste persone Mi aspettavo Il massimo 10 persone I fedelissimi 45 No siamo arrivati Anche a 70 persone Ma stanno avvelenati Più che altri Cioè Non è che Non me lo aspettavo L'assoluto Che vogliono Proprio Prenda pizze Non è Sì Probabilmente Li abbiamo incattiviti Nel canale No Io qua c'ho Romualdo Che mi sta a tirare I pezzi addosso Eh non è una cosa Normale È classico Romualdo Beh qui difenderemo Il nostro pedone Bravissimo E se fa questa C'ho questa Certamente Questa è interessante Cambiamo Cambiamo Anche l'altra Anche l'altra Non si può cambiare In questa posizione Cioè c'è una qualità in meno Un pedone in meno Beh io questa settima Me la prenderei No non ci abbiamo bisogno Scusa Prendiamoci il pedone È il meglio Ma la settima è più bella Cioè la settima Ti dà l'idea di dominazione Tanto il pedone in più Tu già ce l'hai Devi prenderti la settima E dire wow Ma non la voglio La tua settima Ma come Ma la settima Scusami No 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 Guarda che le settime Nella vita Sono Sono importanti Anche da un punto di vista Del finale Siamo un po' didattici Anche da un punto di vista Estetico La settima È una cosa che ci fa Piacere vedere No ma noi ci accontentiamo Anche di una quarta Abbondante Diciamo la verità Franco Ma sì Ma da un punto di vista Organolettico Ma pure una terza Fatta bene Dai Pure una terza Infatti Non è Diciamo Però dalla seconda In giù Non esiste Cioè non è Una cosa vera Dipende anche da altri fattori Vabbè chiaramente Ma chiaramente Sappiamo che Franco Comunque preferisce la chiappa Perché è sempre sostenuta La più meritocratica No? Ma io no Io in realtà Sono sempre stato uno Che Team Seno Al contrario di Coseno Ricordiamoci Perché Comunque c'è questa idea Un po' romantica Della prima cosa Che tu da bambino Vai a Cercare comunque Il seno No ma C'è quindi questa storia Un po' edipica Certo Certo Anzi ti dico di più Cioè Parliamoci chiaro Il culo piace Perché ricorda il seno Detto proprio Dai scienziati No detto io Ragazzi Attenzione Ma in realtà Io in questo momento Ho fatto questo switch Di pensiero E un pezzo in presa Così Io lo prendo Onestamente Ho imparato C'ho la scuola di Marco Io Un pezzo in presa Me lo mangio Eh ma vedi che hai lasciato Un perone in presa No mangia comunque quello Questa posizione è in piccolo Non perché abbiamo torre Diamo uno scacco No Non diamo uno scacco Diamo semplicemente un Alfiere No Sì Allora qua Cambiamo tutti i pezzi Andiamo a dare matto Con alfiere a cavallo Credo Ah no Non ci arriveremo mai Perché il nostro avversario C'ha poco tempo Eh purtroppo sì Facciamo questo Dovevamo dimostrare Appena toppato E poi Appena toppato Grazie mille Astore991 E Chi tocca A variante Mini Apple Reg Rock Reg Rock Chi è? Che mi aveva sfidato Forse è G. Giovena No È Coso Come si chiamava O Loreg 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 Ah Loreg Si chiamava Loreg Tutto questo Io ho lasciato un pezzo Un presa E vado a prendere matto Ma no Non è vero Zì Romualdo finge Di vincere le partite Poi le perde Perché sotto sotto Anche lui Lo sa di essere scarso Non quanto me Ma abbastanza No no Te lo giuro Che alla fine Ho perso la partita Comunque ricordiamo Che dalla chat Questo Reg Rock È molto Molto friendly Con le persone Che vogliono sfidarci In quanto Istruisce le persone Su il nick Sì Che ci sta dando Aiuto Giustamente Sono persone Di cui abbiamo bisogno Sì sì Io vorrei fargli Complimenti Perché io non stavo Considerando la chat E lui sì E lui chiaramente È una persona Molto più brava di me In queste cose Grande In un eventuale Canale Twitch Sarà sicuramente Uno dei Ma no Io credo che Twitch Sia solo per le persone Che vogliono i soldi Nella vita Bravo Romualdo Infatti sì Ha perso un pezzo No? Ho perso io la partita Ha fatto un furto clamoroso A un certo punto È volato un pezzo È volato? Sì È volato proprio Tanto io Con Reg Rock Sto giocando questa partita Interessante È una delle siciliane Che sinceramente Più mi annoia Onestamente Però Questa Il Ginger GM La considererebbe Una Dragodorf Perché c'è sia A6 Che Alfiere G7 E noi Ce ne sbattiamo Il cazzo Come nostro solito Io vedo che In questa posizione In questa posizione Nero stia Veramente Veramente bene Per chiarire motivo Ma fondamentalmente Sapere come si chiamano L'apertura Non ci interessa No? No 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 È solo per Per citare questa cosa Cioè ci fa Sono dei libri Che camminano Non ci Ok Sto veramente bene Perché guarda Sto alfiere Quanto è forte Guarda Allora Che se la fa Non vedi come Balla Nando Non vedi come Balla Nando Che cazzo di pazzo Qui vedo una bella posizione Chi è chi è? Hai messo 2 Hai messo appena La Torre Nd2 Sì 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 Vabbè L'avversario Quando permette Io Ma propingo Insomma Vorrei Piazzare Il mio cavallo Però non gli trovo Realmente il futuro Quindi Io mi limiterò A cacciare via Il suo Ovviamente Lui giocherà qualcosa Che somiglia molto a 3 E io Dovrò pensare Se mi conviene L'azzo Non lo fa E io a questo punto Prendo Faccio questa E poi entro Se non piglio quanto sto bene No? Quindi stai penetrando Lo stai dicendo Sì 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 Lo confermo Ok Questo lo canzio Perché ci piace Propone un trade E noi ci mangiamo dei pedoni In questa partita C'è una leggera minacina Di Mario Di Mario? Sì Di scacco Mario E trovate Lui Lui sta mangiando Torre di 8 A cera F8 Cavallo di 2 Ma era obbligato a darmi Ah ok Questa Sì perché no Pensavo mi desse Scacco in D8 E tornassi in D1 Ah davvero? Beh sì Mi sembrava più Ma non è vero In tutto questo Sono le 6 e mezza Sì si potrebbe anche apportire Io tra poco Vi lascerò Perché ho degli impegni Io perché ho la connessione Precisamente Potevo prendere in B2 Ho detto Perché ho giocato al fiere Vabbè la faccio adesso E beh sì Ma comunque Cioè Questa partita è chiaramente Vinciuta dai Due pedoni in più Sono un vantaggio Abbastanza Beh però Si mangia a B4 Infatti Scacco Vabbè io mi tengo al fiere però no? Eh sì però Intanto abbiamo dei problemi su A6 Che noi possiamo Che dovremmo difendere Così forse no? Beh non sono Ah non può mangiarlo tu dici No può mangiarlo Può mangiarlo Io al fiere C3 Non lo so Eh Torre A8 Scusami Eh dovrai togliere un giorno La torre da Scacquare Pazzo Aspetta Attenzione morisco io però Eh Modena fa Quella mossa Che fai? Uff Oh non l'hai visto Invece Invece Uff Senti facciamo subito questa Che dobbiamo un attimo Sconvolgere gli equilibri qua Perché se no Pur sbagliato tra l'altro Cazzo C'era 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 Redd1 lì E andavi in difficoltà Redd1 Perdo un pezzo Tranquillamente Attenzione Attenzione in questo finale Il bianco Sta incredibilmente meglio Questo finale è patto teorico Però È patto Questo è patto Però possiamo farlo E tra l'altro lo vedremo In una delle prossime puntate Dei finali elementari Sì L'hai detto L'hai detto Mo te tocca Ma per forza Però questa è una posizione No che cazzato ho fatto Io credo Cambiavo Vincevo il finale Beh vincevi adesso Secondo me È stato del quadrato Cambiavo È stato del quadrato Comunque lui va a prendersi I tuoi pedoni Secondo me è pari È gioco F6 Quando entro Eh ma con Non lo scopriremo mai Non lo scopriremo mai Esattamente Lo scopriremo in La risi Sono stato un po' Cappellano Vabbè però Il ragazzetto gioca bene Per avere quell'elo No? Sì Dobbiamo dirlo Molto forte Questo ragazzo Diciamo che ci sono state Un paio di imprecisioni Da parte del Sì del nero In questa posizione Un paio Sì Ho perso due pedoni Siamo due pedoni In più l'ho perso Quindi Però lui stava là Stava pronto Sì sì Lui stava là In agguato L'avvoltoio Quelli Sono qualità importanti Niente Io dovevo fissare un attimo St'è struttura In maniera onesta E poi vedere un attimo Se riesco a Ad avvicinarti con il re A migliorare i resi Comunque ricordiamo Ma non mi fa Impazzire Perché potrei giocare Oddio però non è malvagia Attenzione Ma insomma Diciamo quello che è Ragazzi in chat Visto che voi siete Molto più forti Potete spiegare Ai suddetti Ragazzi in chat Come si Come si manda Una sfida su di chess Semplicemente Ci cerchi Il nostro nome Ci clicchi E fai Praticamente Le due spade Incrociate Ci sono Sfida Una partita E quindi Potete sfidarci Tranquillamente Molto bravo Piano qua In questa posizione E chiaramente pari Il pianoforte Bisogna sempre avercelo Il pianoforte Però Non ci sta qua Si può ondeggiare Con il re A fare delle cose strane A un certo punto A regalare Intanto Ci sta guardando Anche il nostro amico Godeliano Perché lo leggo Grande Saluti Grande Godeliano Eh in effetti Si Non è chiaro Se ci guarda su youtube Ma ci guarda chiaramente Su lice Su lice Beh fai Non fa niente Noi Noi comunque Salutiamo per educazione No nel senso Che se non ci segue Su youtube Non ci sente Posso fare una porcata Posso fare una porcata Assurda Mi piace questa mossa Pure tu Io pensavo Pensavo mi piace La parola porcata No non la posso fare Una porcata In realtà No ma Io non darei I pedoni In questa posizione Eh si Volerei semplicemente Eh purtroppo Non si può Su quello Fai sempre l'altro Però Eh si cazzi Diamo il pedone Ma che c'è frega Se vive una volta solo Intanto c'ha 27 secondi Il nostro avversario Non capisce più niente Shock Psicologico Shock Psicologico Bravo Tu sti che sai parlare italiano A differenza mia Tuttavia No Torre F 5 G5 No non funziona Torre F5 G5 Sì ma sì Ma che c'è frega Caro Franco Che c'è frega Adesso arriva G5 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 Ezzo Ah E5 Ok Vabbè Più o meno patta Dai Ma sì Allora Non cambiamo tutto Altrimenti È un problema Tra 3 più 2 Questo vuol dire Che è molto probabile Che finisca pari Molto probabile Che finisca Che perdo Ma no Ma guarda Non giocare 3-5 Per favore Potrebbe essere un problema Ci stanno Ci stanno tracciando Stacca Stacca Il tuo avversario ti offre la patta Accettiamo la patta Abbiamo salutato Ed è arrivato Accettiamo la patta Se l'hai meritata Dai Ho giocato bene Intanto E Godegliano Ci dice che ci guarda Da entrambi le parti Avanti e indietro Non voglio sapere In che senso Io accetto la patta Se l'hai meritata Dai Ho giocato male il finale Se l'hai meritata la patta Inutile rubarla per il tempo E fa cose strane Dai È stato bravo Ti fava il nostro amico Loreg Come tutti noi Rualdo ti fa sempre contro di noi Anch'io ti favo contro di voi Cioè contro di noi Perché comunque è più bello Fondamentalmente Ma non dire queste cose Ti querelo Non siamo family friendly noi No purtroppo Ragazzi Che vogliamo fare? Pensa e sacrifica Chi è? Pensa e sacrifica L'ho già sentito Chi? Pensa e sacrifica L'ho già sentito questo Nick Su Twitch L'ho visto Sulla Qualche live di Maria Grazia Probabilmente Questa è Giga Kramnik Una vatta qua Alex vale oro Molto vero Molto vero Molto vero J-Hope 999 E Giovena Continuiamo ragazzi Se sto a fare una certa Però da quant'è Che stiamo in diretta Più di due ore Penso Parecchio Io sto scassato proprio Mamma mia Qua dice due ore fa Allora comunque C'è il suo bel Dice che tifa Tifa Chi ha più materiale Quindi non ha mai tifato Per morfi Quindi Nella sua vita Sì Con brutte sorprese Tra l'altro Beh io direi che La prova è andata Abbastanza bene Ragazzi Ma sì 46 spettatori Dopo due ore C'abbiamo 27 like A buffo Ragazzi Ci sono delle persone Che hanno messo Mi piace Massi Massi Ma vi piace Non vi piace Puta salute Comunque c'era Giovanni Benevento Che voleva giocare Io lo farei giocare Ah è vero È vero J-Hope 999 Cioè poverino È stato lì in fila Da un bel po' Hai ragione Ti sfido io Dove sei Sfidami Chi è? Chi è? J-Hope 999 Attenzione c'è Giovanni Benevento Ok ma ha sfidato pure a me Marco Seguo te comunque Ci giochi tu? No A me non mi ha sfidato Giocaci tu La sfidata Vai La sfidata a me Allora lo accetto 5 milioni standard Vabbè Ragazzi facciamo l'ultima partita Però perché Si è fatta una certa Sì Io confermo Ok Intanto poi insomma Ne faremo altre E il torneo Vai vai Social Parti Che cosa giochiamo? Giochiamo D5 No Un'altra volta No dai Una cosa di vero D5 ci stai Francese 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 Si deve giocare B6 Ma chi si DeSantis Oh cazzo Non si è fatta Comunque Queste cose Che brutta cosa Che hai detto Aspetta un attimo Che cazzo si gioca C5 No C5 No Qua Qua ti resta aggressivo No Alfiere B4 Alfiere B4 Ma qui tipo Hanno scritto libri De teoria Che partivano Dalla quarantesima Eh portivano così Eh ho capito Però noi Non siamo così aggiornati Marco onestamente No ma infatti Infatti io Noi giochiamo un po' tutto Guarda qua Avrebbe mai procurato F3 La tua Alfiere B4 Mai Beh adesso ci gioca C6 E diventa una fantasy No adesso giochiamo questa Ma quale fantasy La fantasy ha un nome bellissimo Ce la facciamo noi la fantasy qua Aspetta che faccio io la fantasy Mi mangi un pedone E poi ci penso Ragazzi Il socio è proprio Sopra che marino Sopra che marino È concreto No il socio è concreto È praticamente La vita Già ci ha messo in difficoltà Cerchiamo soluzioni Che i problemi ce li abbiamo già No però c'è l'idea di donna H5 No quindi era Cioè donna H4 No 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 L'idea è che mangia tutto Quasi è magna Magna tutto Debolezze Vedore in più Lascialo fare il socio Ma donna H4 Io avrei giocato due volte Ma perché devi complicare la vita Quando il vantaggio Sta già là Ma donna H4 Bellissima Minaccio il re Ma adesso è bello Che se mi fa D5 Che se pensa che è una mossa buona C'ho cavallo F6 Che sviluppa tutto Piglio qua Arrocco E poi gli gioco torre 8 E sto io che gli attacco a lui Se lui cambia in E6 Scusami Io prendo dal sviluppo Che sviluppo Come detto poc'anzi No Eh no perché pensavo Dopo c'è la colonna D aperta Sulla torre Però tu dici Sposto la donna E sti gran cazzi No donna E7 Donna C5 E poi sei tu che devi difendere C5 Dei metto la torre in E8 Ma non solo Vedi lì Il bianco c'ha tutte le debolezze A2 Per due doni doppiati Ma ricordiamo anche una cosa Ricordiamo anche una cosa No abbiamo fatto fior di video Su Youtube E anche dei mini video Su Instagram Per far capire Quanto è triste L'alfieri in F1 No? Bravo Vuccio che studia la fantasy Eh sì Abbiamo fatto fior fior di video Su Instagram Ma soprattutto Per dire Vedi come balla Nando Bellissimo Ragazzi Libero Era una trasmissione trash Però si doveva giocare Si doveva mostrare Sì 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 Vuccio Sabuccio studia Sabuccio è una persona Studiata Molto bravo Tra l'altro Vuol dire che gioca Karokan O gioca E4 Sicuro studia più di me In entrambi i casi Credo che sia una persona Con gusti discutibili Perché E4 Dai per favore Karokan dai per favore E4 è la mossa più forte E4 è la mossa Secondo me più interessante Ma perché devi aprirti Questo gioco Chiuditi un po' In te stesso Dimostra di essere Una persona No io gioco D4 Io credo che E4 E4 sia la mossa più interessante Ma secondo me D4 è più forte Però ognuno ha la sua visione Ma è Dipende Dipende dal carattere Di una persona Ragazzi Cioè poco Però Puoi giocare aggressiva D4 Allora no Se sei uno che chiappa le cose De petto Eccetera Giochi E4 Se sei uno come me Che parte tranquillo E quando si incazza Te mena Allora giochi D4 Capito E pure dal carattere Esatto Se vuoi essere quello violento Che tu tipo Baspenza e Terezille Prendi Inizia E fai 4 Esatto Scusatemi Se invece Vuoi essere un serpente Che ti piace stritolare L'avversario Piano piano E poi lo ammazzi Giochi D4 Dipende pure Perdonate Badur Detto il Giobava Nella vita Vi sembra una persona Serpentosa O una persona Che tira pezzi addosso E Badur Detto Giobava Giochi E4 Ma perché il biaro Mi ha abbandonato Giobava Lungo Io ci ho giocato Io ci ho giocato Con uno che Una volta In torneo Ha preso i pezzi E me l'ha tirato addosso Davvero? Sì A livello fisico L'ha fatto male L'ha fatto male È stato un bel Perché Scusate Raga Scusate un attimo Oh Giochi D4 Non so In questa posizione Abbandonato No però poteva Continuare un po' A giocare Cioè sta male Per carità di Gio Ha scritto È stato bello È stato bello Ma fai come le mie ex Che mi dici È stato bello Ma mi abbandoni Ti ringrazio io Giovanni Per la bella partita Giovanni tranquillo Non pensiamo Che tu sia una donna Sei una brava persona Mi dissocio Chi ci abbiamo in attesa Ancora Pensa e sacrifica E Giovena Pensa e sacrifica Credo di conoscerlo Deve essere È Giga Giga Probabilmente è Giga Ragazzi Sei Giga Voglio salutarlo tantissimo Ciao Giga Ma non c'è Non è in chat però Eh però dovresti Farsi vedere in chat Giga Che ti vogliamo bene Di vedere No Alex Non era cosa Su alfiere Non si poteva giocare Beh torni al discorso mio No dell'alfiere triste Stava là Che non poteva Neanche fare Un latte in the squeak Porello Stava stretto Stresso Si può giocare G3 Alfiere G2 In qualche modo Sì Sì Giovena Giovena Penso e sacrifica Sarà sicuramente Giga Grammik Sì credo Sì immagino E 4 Sì è lui Perché l'ultima volta Giocavo una Neidorf Quindi sarà lui sicuramente Prendi prendi Ah c3 Oh Alla bene Ok ok Giochiamo questa linea Allora Vediamo questa linea Un po' minore No Noi piace giocare Anche la robetta minore Perché siamo fatti così Come diceva Siamo Fatti così Vedo che tutti siamo cresciuti Col corpo umano Un po' a pane Io avevo un corpo molto alieno Ok qua prenderemo Immagino No questa non mi sembra Una roba da giga Anche se in realtà Lui gioca tutte le cose a caso Perché non ha studiato mai niente Nella sua vita Però Però c'è ogni tanto Inizia a buttarti i pezzi addosso E poi si vede Diciamo che non è bene Oh vediamo la partita come va Oddio Un da buone in chat Che ci abbiamo Di Marco Party Eh? Un da buone in chat Da parte di Marco Party È clamoroso Beh Mi sembra che il nero Sta a Benoni qua Stiamo In maniera onesta Credo Però Non so se ho fatto Una scelta adeguata Ma vediamo Ah E 5 Interessante Perché quello al fiere tuo Nero Effettivamente Era zio Quindi Era zio Era zio Qualcosa di forte Il zio Sono sempre forti Quindi era zio Ma se io adesso Prendo in D5 Che succede? Che hai preso un pedone In effetti Però Ti rimane un pedone Debole in D 6 Però è già in più Quindi Sì sì Ok Lo possiamo ridare E saremo molto contenti No diciamo che Secondo me In queste linee qua Il problema del nero È che non c'è gioco al centro Però dopo che mi fai Sto favore No? Sbaglio? Eh no La nostra posizione Sembra che c'è un sano pedone in più Hai anche compenso Dobbiamo scoprire se è sano adesso No ma non solo Ma hai anche attività dei pezzi Ma Knight F6 Penso che funzioni In questa posizione No? Pensavo a qualcosa di diverso Cavallo B4 Arroganza Bravo Mi piace cavallo B4 Ti piace? Cavallo B4 Lo stavo analizzando A3 A3 Interessante Penso che Spostiamo il cavallo Dai No vabbè Cavallo in C2 C2 Sì 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 Affiere per C2 Non minaccia niente Eh cavallo per C2 ancora O donna per No Cavallo per C1 Però c'è affiere per B2 Poi archivia Sì 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 Ma c'è il torre C1 intermedia? Aspetta un attimo Ragazzi C'è stato il torre C1 intermedia però Perché? E sta inchiodato il cavallo in C2 Attenzione È quello che stavo pronto Ma io non lo vedo così tanto inchiodato Eh insomma C'è nel senso quante Stiamo difendendo con 3 Ci sta attaccando con 3 Posso pure giocare F5 E fai cavallo per C3 Cavallo per Cavallo C2 Però torre C1 Complicata Lo sai che Tutto sommato Forse alla fine Devi tornare indietro Voglio che cavallo C6 Ma non credo Facciamo questa dai Una cosa semplice Ma perché? Eh la complicazione là Non la ritenevo vantaggiosa Torre C1 Mi inchioda Poi devo cercare io le mose C'è troppa tensione in C2 Ed è troppo lontano Dalla mia portata Quindi non Il nostro rischiere lo vogliamo Sono assolutamente D'accordo con Alex Io prendo qua E se prendi Se prendi il cavallo Lo cambio Se prendete cavallo Un'altra volta C'ho e c'ho O no? Cioè cambia ancora? Come? Cambia ancora? No no Cioè devo cambiare per forza Perché c'è in presa D6 no? No Poi anche Pensate mangiare B2 Però mangia D6 Aspetta c'ho l'alfiere G4 In presa che è la priorità no? Sì Interessante sta partita Devo prendere Cambia e poi si difende D6 Probabilmente Devo prendere qua prima Perché Esatto E poi giocare così Ma se mangi Se mangi in B2 Che succede invece? Mangia in D6 Mangia in B2 Mangia in D6 lui Quale c'era? Credo Vabbè Così grave? Ecco Volevo più l'idea Mi piaceva di più questa qua Perché comunque Sono io che guadagno il tempo Per fare cose adesso Non me lo dà l'alfiere Delle case scure lui no? Vabbè Può fare cavallo e 5 Cavallo e 5 Cavallo e 5 è l'idea Sì 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 Bellino Cavallo e 5 Sì è che non Mi piaceva per Diciamo un possibile finale D'alfieri Contrari Però ci stanno ancora I pezzi pesanti Quindi ancora È buona Ma c'è l'ingresso in C2 Pronto io A un certo punto Ma non possiamo Non possiamo Pensare al finale Quando c'è la donna in gioco Come il Brodostar Il Brodostar Il Brodostar pronto Ah è pronto Donna in D5 Interessante Tradiamo tutto La nostra vita E mangiamo in B2 E qua penso che posso liquidare tutto no? Eh mangio in B2 Però non è davvero vero Che sei in vantaggio Mangi in F3 Mangio in B2 adesso Cioè Mangi in F3 Mangi in B2 Però dopo c'hai sia Cioè dopo torre B1 ad esempio C'è una po' pressione Sia su D6 Sia su B7 Però c'è più o meno Non fa più pressione Su B7 Scusa No però in F3 D'alfieri non c'è più Eh però c'è la donna C'è la torre in B1 Vi faccio notare Che c'hai un minuto e venti E non c'è nessun incremento Gioca 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 quello che puoi La variante migliore È gioca rapido Mangia sto al F3 Staremo tranquilli Mangia sto al F3 Non complicare Che c'hai poco tempo Ma secondo me È più complicata così La posizione Ma tu magna tutto E poi semplifichi Torre D8 Torre D8 Ci può anche stare Mangia in B2 L'amorso bravo Ma no C'è Mangia in D6 Sti cavoli Donna D7 La donna è inchiodata Come così Non mangi più in B2 E adesso questa In un qualche modo Mangerò in B2 Anche gli ingressi in C2 Sono tutti bellissimi Dai Ma se può pure Fa D5 Effettivamente D4 Sì Sì Vabbè Bella Ecco Va bene Mi è piaciuto Anche Donna Città Era interessante Ma D5 Ah no D5 ci occlude un po' L'alfiera In effetti Ma anche questa Ha il suo perché Ma sì Donna C4 Siamo tutti a casa Come direbbe Romualdo Vitale E questa E purtroppamente Queste qualità Che droppano Perché vuole giocare sul tempo Il buon Giga Vabbè Io penso di sì Io ho una memoria Un po' Strana per i nomi Eccetera Però Credo di sì Che cosa facciamo qui La presa di lì La presa di là Mangia subito La torre Mangia subito La torre Non ci pensare Due voglie Mangia e spingi Mangia subito E spingi subito Però Alfiere Lui Dici problemi Sulle case scure Eh sì Ce l'hai Ce l'hai Ce l'hai problemi Ma non abbiamo Nessun problema Davvero Dobbiamo giocare Una mossa forte Adesso Mi piace Quell'idea di F6 No però Alfiere E4 Ah no Attaccavamo una torre Attaccavamo una torre Va bene C'era la torre impresa Donna scacco Cambia le donne De corsa subito Portissimo Incredibile ragazzo No Attaccavamo una impresa Molto bravo Molto bravo E anche No Mangia la torre Che sta succedendo Non lo so Ho lasciato la roba in presa E me la sono presa Molto bravo Ti ringrazio Giga Gramnik A questo punto Punto interrogativo Giga Gramnik Perché non ricordo Se sei tu Ci avevamo Altri due giocatori qua Ragazzi Però ci devo fermare Perché Non riusciamo Salutiamo Per favore Vi ringraziamo tanto 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 Per essere stati Con noi oggi E la prossima volta Vi prometto Che Ve la Ve la programmiamo La diretta Perché oggi L'abbiamo veramente Improvvisato La lasciamo sul canale Sta roba Ma io direi Ma io direi di tagliare Qualche pezzo Eventualmente Nel dubbio Ce la scarichiamo Nel dubbio Ce la scarichiamo Taglieremo qualche pezzo E la roba che più ci è interessata Insomma La mettiamo Dai Va bene ragazzi La prova è andata bene Poi penseremo a fare altre live E poi penseremo a fare altre live Il torneino E il torneino soprattutto Perché noi ormai siamo la jalapas chess E dobbiamo commentare dopo il torneo Sarà divertente Un po' Eh sì Ci vediamo Per il video E niente Buona cena Buona domenica Mi raccomando E alla prossima Seguiteci sempre Ciao a tutti Ciao